Il potere della tua visione. Manifesta ciò che vuoi con il potere dell'intenzione e dell'immaginazione. Di David De Angelis. Copyright David De Angelis 2021. Narrato da Alex Martinelli. Tutti i diritti sono riservati. Quando una persona riconosce in sé il potere di cambiare, rinasce in una nuova vita. Una vita di speranza, di bruciante motivazione, di sogni, che un giorno, grazie alla fede e alla perseveranza, prenderanno corpo. Non siamo nati per soffrire, ma per imparare, per crescere e per godere di questo mondo che per alcuni è vera magia. Prefazione. La vita è come il cubo di Rubik. Se ti dicessi che la vita è come completare il cubo di Rubik, ti spaventeresti, perché reputi impossibile e complicato mettere tutti i tasselli al loro posto? E se ti dicessi che ho conosciuto un ragazzo di 15 anni che lo completava in un minuto e mezzo, in qualsiasi modo fossero mescolati i colori del cubo, ci crederesti? A volte le imprese della vita sembrano a prima vista impossibili, almeno fino a che non crediamo che esista una soluzione. E a volte, la soluzione è più facile e naturale di quanto avessimo mai immaginato. Basta conoscere le regole ed i segreti del gioco per vedere accadere quelli che all'inizio avremmo reputato dei veri e propri miracoli. Il potere di creare in maniera intenzionale, come sarà spiegato in questo libro, è più semplice di quanto tu abbia mai immaginato. A volte si richiede addirittura di mollare la presa sui propri desideri per vederli affacciare nella nostra vita. Spesso è più facile trattenere che lasciare andare, specie quando si parla di desideri che ci stanno a cuore. Mentre è proprio il lasciare andare che porta la nostra richiesta nell'universo per poi farcela recapitare nei modi che spesso non ci aspettavamo. Il ragazzo di cui parlavo prima, che completava il cubo di Rubik in un minuto e mezzo, non è un genio da Guinness dei primati con capacità di analisi particolari, ma un ragazzo normalissimo. Quel ragazzo ero io. Come dicevo poc'anzi, basta scoprire le regole del gioco per impadronirsi della via del successo. La storia è questa. Quando avevo 15 anni andava di moda il gioco chiamato Il cubo di Rubik o Il cubo magico. Ogni lato ha un colore ed è formato da piccoli tasselli che, una volta mischiati, devono essere rimessi al loro posto per ricomporre le facciate colorate del cubo. Che tu lo conosca o no, posso assicurarti che è un'impresa degna di un megacomputer, in quanto ogni movimento sbagliato può mischiare ancora di più i colori, o al contrario ricomporli, se sai come fare. Ebbene, anche per quel gioco apparentemente impossibile, trovai un modo per completarlo in meno di due minuti. Come? Acquistai in edicola un libretto di appena 60 pagine e ad un prezzo irrisorio, dove venivano spiegate le mosse ed i movimenti necessari per completare ogni livello del cubo fino alla sua risoluzione. Magia? No, semplice tecnica. La differenza tra me e milioni di persone che non riuscivano a completare un solo livello del cubo, e devi sapere, più si va avanti nel gioco e più diventa complicato, in quanto ogni errore di movimento dei colori può mischiarli, erano delle istruzioni contenute in un libretto, oltretutto letto e appreso da un ragazzo di soli 15 anni. Con questo, caro lettore, voglio dirti che spesso le regole del gioco sono semplici e portano a grandi, anzi, enormi risultati se si prende la briga di fare un po' di pratica. Non dico che sia facile, almeno all'inizio. Quando si inizia a praticare un nuovo gioco o un nuovo sport, occorre fare un po' di pratica. A mano a mano, quando si acquisiscono competenze e sicurezza, e successi, la vita diventa sempre più scorrevole e piena di soddisfazioni. Nella vita ciascuno ha il proprio gioco, costituito dai propri sogni e desideri, e seguire e raggiungere quelli autentici porta a nuovi piani di evoluzione, soddisfazione e gioia. Questa è la vita se sei prenderla dal lato giusto, e questo libro vuole insegnarti come fare. I sette punti chiave per manifestare la tua visione 1. Accetta la responsabilità della tua vita 2. Rispetta e accresci la tua energia vitale 3. Trova la tua visione e seguila, scegliendo gli obiettivi che ti riempirebbero di gioia 4. Indirizza la tua intenzione 5. Metti a fuoco la tua immaginazione con il focus immaginativo 6. Abbi fiducia che l'universo stia già rispondendo alla tua richiesta The focus immaginativo 7. Agisci in maniera ispirata quando si presenta il momento La mia storia, la mia visione Immagina Immagina un ragazzo di soli 15 anni che, con le mani nei capelli, gli è stata diagnosticata la sua miopia e che gli siano stati affibbiati il primo paio di occhiali correttivi Immagina il suo disappunto, la sua delusione di dover portare a vita un peso sul suo viso, delle catene, per la sua capacità di vedere liberamente il mondo Immagina il suo senso di frustrazione nei confronti di qualcosa come gli occhiali che, a lui estraneo, deve per forza iniziare ad indossare sempre per non stancare la vista Immagina questo ragazzo che, dopo un paio d'anni di studio, vede la sua miopia aumentare in maniera progressiva, quasi ineluttabile, che lo vede passivamente spettatore di un deterioramento progressivo della sua visione fisica Immagina il momento in cui la sua intenzione si fonde con la sua immaginazione Un momento che cambierà per sempre la sua vita quando sente e sa dentro di sé che, nonostante l'autorità medica, la scienza ufficiale, dica che nulla possa farsi per prevenire e migliorare la propria vista, inizia a studiare quanto più possibile, perfino libri e riviste scientifiche in lingua inglese che, all'inizio, non gli erano familiari La sua formazione proveniva da studi classici prima e poi da studi giuridici portandolo nel tempo sia alla laurea in giurisprudenza presso una prestigiosa università italiana e di pari passo all'inesorabile incremento della sua miopia e della sua capacità di abbracciare visivamente il mondo Quel ragazzo, nonostante tutte le evidenze contrarie, compresa l'opinione comune consolidata in centinaia di anni circa l'ineluttabilità dell'insorgenza e della progressione della miopia, decide a livello interiore di trovare una soluzione naturale alla sua guarigione Immagina quel ragazzo, chino su testi e articoli medico-scientifici che trattano esperimenti su animali circa lo sviluppo e la progressione di quel difetto la miopia, che sempre di più si impossessava dei suoi occhi e della sua anima Immagina solo per un attimo la sua frustrazione ma anche la sua speranza e la sua forza d'animo circa la sua visione di poter un giorno guarire in maniera naturale e fisiologica e senza l'utilizzo di occhiali, lenti a contatto e chirurgia Questa sua visione si trasformò nel tempo in una realtà avendo lui trovato, nelle pagine di decine di studi scientifici che attestavano il fatto che la miopia fosse provocabile se sottoposta ad alcuni stimoli negativi, iperaccomodazione, la soluzione al suo problema Occorreva fornire agli occhi stimoli opposti, ovvero positivi a quelli che avevano generato un adattamento negativo della sua vista generando miopia In quel modo, sconosciuto a tutti, egli sarebbe guarito Applicando nel tempo le intuizioni fornite da quegli studi iniziò un lento e faticoso percorso di rieducazione visiva che lo portò, un giorno, alla regressione del suo difetto visivo La sua miopia, dopo un lungo lavoro, svolto in silenzio e senza alcun appoggio della visione comune circa la presunta incurabilità dei difetti di refrazione come la miopia lo portarono non solo alla cura della sua vista fisica ma anche al trionfo della sua visione interiore Quel ragazzo, che ormai stava sempre più crescendo, creò poi un'altra visione Il suo successo e la sua visione circa la potenzialità di prevenire e di curare la miopia Un male così diffuso nella civiltà tecnologica moderna doveva essere diffuso nel mondo e condiviso con il maggior numero possibile di persone Ancora una volta, il ragazzo sfidò se stesso improvvisandosi scrittore Mise su carta la sua esperienza con la miopia e ne fece un libro Questo libro venne poi pubblicato e diffuso prima nel suo paese di origine e poi tradotto in numerose altre lingue Da quel momento la sua visione venne sempre di più accettata e diffusa nel mondo a beneficio di milioni di persone che, da sole e con le loro forze finalmente potevano far qualcosa per la loro vista e a costo zero Anche questa visione, di quello che un tempo era un ragazzo quindicenne senza credenziali mediche, divenne una potente realtà Ebbene, quel ragazzo ero io Nelle pagine di questo libro è mia intenzione trasmetterti tutto ciò che è importante per tirare fuori il meglio del meglio dalla tua vita e tutto ciò in cui credi e a cui aspiri profondamente La mia missione è, e continua ad essere, quella di aiutare le persone a migliorare la loro vista fisica Ma ora sento che sia giunto anche il momento di aiutare le persone a far emergere la loro visione interiore Tutto quell'insieme di progetti e sogni che ognuno ha dentro di sé ma che troppo spesso ha timore o dubbio di tirare fuori e di manifestare Caro lettore, questo libro che tieni in mano rappresenta il mio profondo desiderio di ispirarti verso la tua crescita come individuo e verso il raggiungimento dei tuoi desideri più grandi Mi piace pensare che un giorno, quando vedrai i tuoi sogni materializzarsi davanti ai tuoi occhi penserai per un attimo a me e a queste pagine In qualunque parte del mondo mi troverò, percepirò il tuo sorriso di gioia e di ringraziamento Questa è la profonda intenzione che sottende ogni pagina, ogni riga, ogni parola di questo libro Che anche questa mia visione possa avverarsi assieme alla tua David De Angelis Accetta la responsabilità della tua vita Il primo passo verso una vita autentica, che rispecchi al massimo noi stessi e che ci porti verso uno stato di abbondanza, gioia e realizzazione è quello di accettare di essere i soli responsabili di se stessi delle proprie scelte e del proprio successo Nel momento in cui si fa questa scelta, ci si riappropria del potere di cambiare se stessi in maniera consapevole e autonoma È troppo facile dare la colpa agli altri e al mondo per il fatto di non accontentarci Il mondo inizierà a rispondere alle nostre esigenze, mettendo in atto la forza dell'attrazione una volta che diventeremo il faro che illumina la nostra vita ed il nostro cammino Se nessuno ti fa strada, apri la strada da te Questo è il motto di colui che è autodeterminato dalle sue scelte dalle scelte dettate dalla sua anima Chi spera nell'assistenza della società, della carità altrui ed è guidato nelle scelte della propria vita dalla verità altrui arriverà alla fine del viaggio a scoprire di essere arrivato nella direzione sbagliata Ogni viaggio parte da se stessi e dall'accettazione di avere un ruolo fondamentale nella scelta della propria via e nell'accettazione del proprio potere di scelta e di azione Chi dà la colpa agli altri per il proprio insuccesso, nega il proprio potere di scelta nel determinare le proprie azioni Commettere errori è normale per chi avanza nel proprio cammino Sta ad ognuno accettare eventuali sconfitte e riarmarsi del proprio coraggio dei propri desideri profondi e delle proprie convinzioni per continuare sulla strada della propria scoperta Se un errore è fatto con il cuore, ovvero seguendo se stessi è solo un'occasione per riconsiderare il proprio modo di agire A volte basta poco per trovare la combinazione giusta se si fa tesoro dei propri errori La vita e il successo, sia materiale che spirituale appartengono a chi se li va a prendere con fiducia Chiedi e ti sarà dato Ma chiedi sempre con il cuore affinché, nel momento in cui riceverai, il tuo spirito sarà colmo di gioia per aver ricevuto proprio ciò di cui avevi veramente bisogno per saziare la tua divina essenza Segui te stesso e crea una vita autentica Cosa ti rende veramente unico? Non solo il colore dei tuoi occhi, la tua forma fisica, le tue impronte digitali e il ritmo del tuo cuore Cosa ti rende veramente unico e irripetibile è la tua visione di vita ovvero ciò che vuoi fare della tua esistenza in questo mondo Fatti non fummo per vivere come brutti inconsapevoli ma per seguire virtù, conoscenza e la tua visione, ovvero ciò che vuoi essere, avere e fare nella frazione di tempo che respirerai in questo mondo La tua visione di vita può addirittura estendersi oltre questo limite temporale che è la tua vita se il tuo intento è quello di fare qualcosa per il mondo in cui vivi e in cui gli altri esseri si avvicendano nelle varie epoche Lo potrai fare se renderai te stesso qualcosa di unico essendo pienamente te stesso Forse sarai ricordato come colui che trovò se stesso nel caos colui che uscì dal gregge e creò la sua via unica colui che creò coscientemente la sua storia Tutto ciò non è poco, anzi, è veramente grandioso seguire se stessi e diventare padroni delle proprie scelte e della propria vita Se credi di farlo già, chiedi a te stesso quando è stata l'ultima volta che hai provato una immensa gioia nel seguire e fare ciò che veramente volevi Quando sembrava che il tempo si fosse fermato quando sembrava che tu scivolassi attraverso le onde dell'esistenza come fa un surfista con la sua tavola Se non hai mai provato o è tanto tempo che non provi quella potente e irresistibile sensazione di realizzazione e pace interiore allora vuol dire che ti sei allontanato dalla tua visione interiore ovvero da ciò che arricchisce la tua anima e solletica i tuoi sensi fisici Vivere la propria visione significa essere vivi al 100% Significa cavalcare la vita e sapere che si sta andando da qualche parte e che non si è in balia di eventi esterni che ci sbattono qua e là come una barca la deriva in mezzo ad una tempesta Quando l'anima e la persona riconosce questa sensazione di potere interiore inizia una nuova vita ricca di significato, benessere e tutto ciò che può rendere piacevole l'esistenza su questo bellissimo pianeta Ma come fare per provare questa bellissima sensazione di essere nelle grazie dell'esistenza o come si dice, nelle grazie di Dio? Molte sono le vie ma solo una ci indirizza dritti verso il porto della nostra anima seguire se stessi e la propria visione ovvero ciò che ci rende felici e che accende potentemente la propria passione per la vita Ognuno ha la sua strada, la propria visione, la propria gioia che aspetta di essere seguita e vissuta Troppo spesso la visione comune, il modo comune di vivere e di essere oscura il personale cielo interiore con grigie nubi di confusione, rabbia e frustrazione Come si può essere felici se dentro di sé ci sono semi di insoddisfazione? Tutto ciò di cui realmente si ha bisogno è di dare fiducia a ciò che si ha dentro e dare credito alle proprie sensazioni di gioia, stupore e realizzazione Quando è stata l'ultima volta che hai fatto salti di gioia per quello che hai fatto o stavi per fare? Quando è stata l'ultima volta che hai provato stupore per la bellezza di un sole infuocato che al tramonto lentamente si immergeva nel mare? Se non ricordi quando, forse è arrivato il momento di fermarti e scendere dalla giostra della vita e chiederti, ma è questa la giostra su cui voglio girare? Forse ce ne sono altre che potrebbero darmi più soddisfazione ed arricchire la mia esperienza di vita? Se non si sa dare subito una risposta a questa importante domanda, non c'è da stupirsi Spesso l'essere umano vive la vita di altri e segue visioni effimere Castelli di carta che prima o poi crolleranno sotto i suoi occhi Gli stereotipi della società, i simboli di successo imposti da essa Il lavaggio del cervello e il rapimento del proprio potere, ovvero della propria attenzione operato dai media, rende l'essere umano un numero in una fila interminabile di esseri senza passione e senza visione interiore Il primo ed inequivocabile simbolo di successo è la propria gioia interiore Quando la nostra anima ci ringrazia per l'attenzione alle sue uniche esigenze e ad i suoi scopi Tutto parte da lì, salute, benessere finanziario e perfino l'amore Come si fa infatti ad amare gli altri se per primi non si ama se stessi? La frase ama gli altri come te stesso implica l'amore per se stessi che si esplica quando, finalmente, usciamo dagli stereotipi comuni e seguiamo finalmente ciò che sentiamo come la nostra strada verso la nostra felicità Sacrificare la propria visione, la propria gioia, il proprio credo per seguire quello di altri significa tradire se stessi e la propria natura Significa cadere nel baratro dell'uniformità Significa diventare pecora in un greggio infinito Significa essere manovrati verso gli altrui interessi e visioni Il primo passo da intraprendere prima di avventurarsi nello splendido viaggio alla scoperta di se stessi e dal dispiegamento dei propri talenti, al vivere la propria vita è quello di prendersi piena responsabilità della propria esistenza Si diventa responsabili della propria vita quando si diventa consapevoli che sta a noi e solo a noi impegnarci nella scelta delle proprie scelte e nell'agire sul proprio cammino, non su quello di altri A volte si crede di farlo già, quando invece si alimentano scopi altrui per quanto benefici possano essere Ciò che veramente ci appartiene è la nostra via, la nostra strada, il nostro modo di essere Ma come capire se si è sulla giusta strada, sulla nostra linea di vita? Niente di più facile, ma anche di più difficile in un mondo di caos dove la nostra attenzione viene continuamente rapita Occorre indirizzare la propria attenzione dentro se stessi e chiedere alla propria anima Qual è il fine della mia vita? Perché sono qui? La risposta verrà data dalle proprie profonde sensazioni e aspettative e queste saranno sempre ricche di gioia La gioia dell'anima è la vera ed inequivocabile risposta dell'anima alla domanda Qual è la mia strada? Come posso fare della mia vita un capolavoro in termini di gioia, realizzazione, amore e benessere? Trova la tua visione e seguila con fiducia Ogni opera d'arte, missione o impresa che siano mai state create sono nate da una visione interiore Ogni creatore ha in sé il forte desiderio di portare alla luce dal suo immaginario quel qualcosa che lui sente sia possibile ma che è ancora in manifesto nelle possibilità della vita La visione è quel qualcosa che nasce dal profondo dell'individuo come se fosse parte di lui stesso Ogni grande impresa reca la firma di colui che la compiuta Senza una visione personale, un grande obiettivo da abbracciare e da manifestare l'individuo barcolla in una vita di routine e di lento declino Il declino nasce quando si viene trasportati nella vita senza una direzione ed in una forma di inerzia Trovare la propria specifica visione di vita in ogni ambito che sia creativo, finanziario, nei rapporti personali richiede un attento esame di ciò che si cela dentro se stessi in quella parte nascosta che tutto vede e tutto sa Troppo spesso l'individuo è sballottato e trascinato qui e lì dalle mode e dagli stereotipi che di volta in volta cambiano nella società L'unica grande verità è quella in cui credi profondamente Seguire una visione non tua, come ad esempio scegliere una professione di cui non si è appassionati e innamorati Legarsi ad una persona che non si ama o vivere come la società dice che sia l'unico modo perché così fan tutti è una forma di alto tradimento verso la natura di te stesso e delle tue possibilità di crescita, evoluzione e gioia Quando fai quello che ami fare in ogni istante della tua vita una corrente di gioia, evoluzione e potere ti attraversa portandoti avanti nel vero posto che ti appartiene nel mondo Seguire te stesso, abbracciando con ogni fibra del tuo essere ogni scelta o azione della tua vita rispettando i tuoi intimi desideri ed aspirazioni porta alla creazione di una vita vera perché autentica Ognuno deve cantare e suonare la canzone del proprio cuore altrimenti si rischia non solo di essere stonati ma anche di annoiare il pubblico Cantare la vita facendo ciò che si ama profondamente quando il tempo scorre senza che te ne accorga quando alla fine esclami stupefatto l'ho fatto, l'ho fatto, vuol dire portare alla luce l'opera d'arte che si cela dentro di te e che sta solo a te tirare fuori Il primo passo è trovare la propria visione la propria passione e la propria missione che dia valore a ogni istante della tua esistenza La vita è una grande opportunità sta a te renderla gioiosa e felice prima che il sipario si chiuda senza aver suonato o peggio, per aver suonato con le orecchie tappate la musica di altri Segui la via meno battuta C'è una bellissima poesia di Robert Frost che mi piace riportare La strada che non presi Due strade divergevano in un bosco giallo e mi dispiaceva non poterle percorrere entrambe ed essendo un solo viaggiatore rimasi a lungo a guardarne una fino a che potei Poi presi l'altra perché era altrettanto bella e aveva forse l'aspetto migliore perché era erbosa e meno consumata Sebbene il passaggio le avesse rese quasi simili ed entrambe quella mattina erano uguali con foglie che nessun passo aveva annerito o misi da parte la prima per un altro giorno Pur sapendo come una strada porti ad un'altra dubitavo se mai sarei tornato indietro Lo racconterò con un sospiro da qualche parte tra anni e anni Due strade divergevano in un bosco e io, io, presi la meno percorsa e quello ha fatto tutta la differenza Robert Frost Queste righe andrebbero appese nelle aule di ogni scuola media per far comprendere ed apprezzare ad ogni scolaro e futuro individuo maturo della società l'importanza di portare alla luce la sua unicità i suoi talenti che da soli lo porterebbero a gradi di realizzazione e di successo altrimenti impossibili da ottenere nel grande mare della grigia uniformità Oggigiorno, intere esistenze vengono sacrificate dietro a falsi miti e da falsi stereotipi che vedono, per esempio, il raggiungimento di una laurea l'unica possibile soluzione verso una vita appagata e finanziariamente prospera Nulla di più sbagliato Il risultato è la creazione di un individuo che diventa sì laureato in qualcosa ma uniformato in presunte vie di successo standardizzate in percorsi di studio che spesso non tengono conto dei bisogni profondi dettati dall'anima che ignorata, piano piano, si spegne in un angolo del cuore dell'individuo magari professionista laureato in un settore ma profondamente frustrato nell'anima Una materia che andrebbe insegnata alle elementari è l'ascolto di se stessi del proprio cuore e delle proprie profonde aspettative e profondi desideri In questo modo, ogni individuo forgerebbe la sua vita in base alla sua propria visione e non a quella dettata dai miti sociali dettati dall'epoca storica in cui vive La società e l'individuo prospererebbero in una sensazione di profondo benessere dettato come prodotto del benessere dell'anima Tale benessere interiore è il primo fondamento di ogni ulteriore benessere secondario come il benessere finanziario e nei rapporti sociali Un essere felice e realizzato è maggiormente propenso a creare in qualsiasi lavoro o professione un'opera d'arte quando la passione e la gioia creativa ne sono il fondamento Seguire la via meno battuta porta spesso a trovare se stessi e la propria speciale via di successo Perfino a grandi scoperte o realizzazioni che, accreditati i professionisti del settore, non sono riusciti a fornire Quando ho creato il sistema di rieducazione visiva che ho chiamato Power Vision System seguito con successo e soddisfazione da migliaia di persone, attraverso un libro poi tradotto in tutto il mondo non avevo laurea o certificazioni in campo medico che mi dessero titolo per una cosa del genere Ciò nonostante, l'ho fatto seguendo l'impulso della mia passione che mi diceva che c'era una strada in quello che stavo facendo nonostante ciò che studiavo e scrivevo fosse una parte nascosta della mia vita, sconosciuta a tutti Seguì la strada meno battuta nonostante allora fossi laureato in giurisprudenza e non in medicina e questo fece un mondo di differenza Dentro di te c'è un grande tesoro e solo a te è dato il compito e la grande opportunità di tirarlo alla luce Spesso si guarda tutto tranne ciò che si cela dentro se stessi Forse una grande opportunità ed un grande ed avventuroso viaggio si cela all'interno di te Inizia ad ascoltare la tua voce interiore e spegni il rumore assordante delle aspettative che la società ti impone e tira fuori quel te stesso che renderà la tua vita un capolavoro Trova la tua visione ed abbracciala Forse un giorno ricorderai queste mie parole e sorriderai con un senso di gratitudine nel cuore Isolati dal pazzo mondo e dal caos dei media Come avrai iniziato a capire, la grande risorsa per cambiare la propria vita è il potere di attenzione, focus Dove va la propria attenzione e concentrazione, lì va la propria energia creativa Letteralmente creiamo ogni volta che fissiamo i nostri pensieri su qualche argomento, oggetto, immagine producendo e generando di conseguenza un sentimento collegato a quel determinato oggetto o immagine mentale Compreso questo concetto, è facile capire come sia necessario fare buon uso della propria attenzione cosciente e poi, come vedremo, anche di quella incosciente o subliminale Si può essere infatti condizionati a pensare, agire e sentire anche dall'ambiente e dagli stimoli a cui non diamo diretta coscienza e attenzione ma che, in ogni caso, assorbiamo dentro la nostra anima o subcosciente a livello inconsapevole Il potere dell'attenzione è simile ad un conto in banca Immagina di avere una cifra da spendere per il tuo sostentamento fisico Vai in un grande centro commerciale e inizi a spendere, come se fosse il tuo capitale di attenzione a tutte cose inutili e superflue per la tua sopravvivenza e crescita Inizi quindi ad acquistare una crema per le mani, 10 pacchetti di caramelle, 2 di sigarette, un lucido da scarpe quando magari la tua anima ancora non ne ha un paio Un enorme televisore high-tech, indebitandoti in comoderate quando la stanza in cui vivi è in affitto È una pazzia! Stai così buttando all'aria una risorsa, il tuo piccolo capitale di soldi e di attenzione su cose letteralmente superflue ed inutili, nell'ottica di spese più utili come pane, acqua e o libri per la tua crescita La stessa cosa vale per l'attenzione, che è comunque un bene intangibile, ma comunque di valore e te ne accorgerai quando inizierai a creare anche beni tangibili attraverso di essa Dunque, occorre far buon uso della propria attenzione ed il primo passo, dopo aver trovato la propria via, è quello di escludere tutti i rumori e le correnti di sottofondo che rubano il proprio potere di indirizzare il pensiero, cosciente ed incosciente, verso il centro della propria vita Lo scopo è quello di elevarsi dalla coscienza di massa, dal gregge che vive di visioni comuni spesso falsificate e abilmente manovrate dai burattinai che anelano ad un'uniforme formattazione delle anime che per natura sono sfaccettate di originali colori e sfumature in un unico grigio Tutto ciò attraverso i mezzi di comunicazione, quali per esempio giornali e televisione Attraverso tali canali, l'individuo e intere masse inconsapevoli sono portate, spostate a piacimento verso luoghi lontani dai propri obiettivi e visioni I luoghi emotivi e gli obiettivi di vita dove sono spostati sono tutti orchestrati in modo da allontanare l'individuo dalla presa di coscienza di avere in sé il potere di scelta ovvero di scegliere la propria via e non quella imposta da altri La massa inconsapevole viene intrattenuta con programmi demenziali dove si canta insieme e si battono a tempo le mani come fossero bambini dell'asilo quando l'anima anela alla sua grandezza, alla sua realizzazione, al suo potere sulla propria vita Interi articoli di giornale scrivono fiumi di parole su ciò che dice, fa o si presume che pensi un calciatore o l'attore di turno, quando il capitale di attenzione di ciascuno viene letteralmente bruciato come un mazzo di banconote con l'accendino Il primo passo è quindi quello di spegnere la tv ed accendere la propria anima attraverso la propria immaginazione, sapientemente indirizzata verso i propri obiettivi di vita Allora e solo allora si inizierà a dirigere la propria vita con coscienza facendo buon uso dei propri ora, verso risultati che per altri rimarranno dei puri miraggi Energia e coscienza creano la realtà Il pensiero crea e manifesta attraverso la focalizzazione della sua energia come se fosse l'argilla messa in uno stampino Se abbiamo le forme pensiero, gli stampini, ma non abbiamo l'argilla di cui riempirli, l'energia quello che ne verrà fuori sarà un notevole ritardo nella creazione o, quantomeno, non accadrà nulla e noi staremo ancora a chiederci come mai il nostro focalizzare non abbia prodotto alcun risultato Proprio come una lente d'ingrandimento può dare fuoco ad un pezzo di carta focalizzando in un punto i raggi del sole, così è con i pensieri Possiamo avere la lente del nostro focus mentale ma se non ci sarà energia sottostante ad irraggiare ed a trasmettere tale concentrazione a poco o a nulla porterà il processo Possiamo avere le idee e i pensieri che vogliamo ma se non avranno la forza per essere focalizzati non avranno l'energia necessaria per collassare nella realtà manifesta Per questo, la presenza di energia e di coscienza focalizzata, focus sono i due elementi indispensabili per il processo creativo Il pensiero focalizzato e finalizzato diventa quindi potente quando è sorretto da una base energetica Ci sono due tipi di base energetica quella mentale e quella fisica Ambe due sono importanti in quanto rappresentano i propulsori del pensiero focalizzato Base energetica mentale La motivazione e la passione Base energetica fisica L'energia vitale che sorregge un organismo vivente Ma andiamo ad esaminarli in dettaglio in quanto la loro conoscenza permetterà a chiunque la applichi di potenziare enormemente il loro potere creativo ovvero di manifestare in maniera consapevole Base energetica mentale Motivazione, passione ed emozione Quando si parla di imprese di successo di solito si parla del suo fondatore o di colui che ha portato a termine tali imprese che si consideravano difficili o addirittura impossibili Qual è il denominatore comune di tali imprese, di tali azioni clamorose che hanno portato quello o quegli individui a superare la barriera del possibile e a manifestare tali imprese? La risposta sta nella forza motrice mentale che ha spinto quell'individuo a superare la barriera mentale dell'impossibilità imposta non solo dalle persone intorno, amici o parenti ma dalla stessa società in cui vive o ha vissuto quel soggetto che spesso viene poi in seguito venerato per questa sua capacità di andare oltre di dare potere alla sua visione Questo è il motivo per cui il potente creatore consapevole deve avere dentro di sé il fuoco della passione e della motivazione Ci deve essere un cuore, una forte emozione che lo muove Senza di esse, la freccia del desiderio scivolerà dall'arco ai piedi di chi la tira Al contrario, una forte passione ed una forte motivazione faranno scalare montagne e varcare mari a dispetto di ogni ostacolo Questo contraddistingue chi crea e manifesta in maniera consapevole Egli sa che il suo desiderio per manifestarsi deve avere dentro di sé quel qualcosa in più che contraddistingue un semplice desiderio che non si avvererà mai da un desiderio che nasce dall'intenzione dell'anima la cui manifestazione lo porterebbe ad un livello successivo nel dispiegamento della sua vita Ebbene, non tutti i desideri hanno un cuore e per cuore intendo quella forza misteriosa che muove le stelle quella cosa misteriosa che riesce spesso a fare miracoli Sebbene tutti vogliano vincere alla lotteria come penosamente vedo ogni volta che in un bar scorgo persone che comprano gratta e vinci e biglietti della lotteria tale desiderio non rappresenta per l'anima la sua priorità Perché avere tanti soldi? Per un'auto nuova? Una vacanza? Saldare i debiti o che altro? L'ottica dell'anima è spesso diversa da quella della mente dell'individuo Ciò che l'anima vuole è una via di appagamento ma anche di realizzazione L'anima, dalla sua ampia prospettiva, non avrebbe motivo valido quindi passione e motivazione a vedere la persona che anima seduta a non far nulla alle Maldive quando il suo spirito muore di fame in una vita senza significato, evoluzione e crescita Occorre dare motivazione e passione per avere propulsione ai propri desideri Quando l'anima li trova farà in modo di dare il meglio del meglio per riuscire a soddisfare il desiderio forse riuscirà a muovere fin anche il cielo e le stelle per vederne la realizzazione Il primo passo è quindi quello di sintonizzarsi sull'onda della propria anima e rispondere alle sue intime esigenze Tutto parte da tre domande Cosa farebbe me stesso veramente felice? Cosa mi riempirebbe di gioia al di là di ogni cosa? Cosa riempirebbe il mio spirito? Esiste una celebre frase della Bibbia che dice Qualunque cosa hai nel cuore, vai e falla, il Signore è con te A qualunque religione tu appartenga, o anche che tu sia ateo, caro lettore, ha poca importanza Come me stesso, credente in tutte le religioni e correnti di pensiero che diano potere all'uomo nel rispetto della grandezza del tutto posso dirti che spesso nelle Sacre Scritture si trovano celate chiavi importanti che possono essere utilizzate dall'uomo per la sua grandezza ed evoluzione Nella frase di qui sopra è racchiuso il potere della base energetica mentale spiegato in questo capitolo Qualunque cosa hai nel cuore, vai e falla Il potere creativo è con te Base energetica fisica Energia vitale L'individuo crea, agisce e interagisce nella vita sull'onda della sua energia vitale fisica L'energia vitale è quella forza che contraddistingue un essere animato da uno inanimato Si è vivi grazie all'energia vitale, così come si è vitali sempre in base ad essa Esiste una enorme differenza tra l'essere vivi e l'essere vitali Tutti gli esseri umani che incontriamo per strada o sentiamo al telefono sono vivi Ma molti meno di essi sono vitali Per renderti la differenza tra l'essere vivi e l'essere vitali Immagina quelle mattine d'inverno in cui vorresti stare a letto tutto il giorno E nelle quali, con tutta la buona volontà, non trovi almeno una buona motivazione per uscire dal letto Per vestirti e per fare qualcosa che sia di lontanamente costruttivo e perfino di piacevole In quei momenti sei vivo ma non vitale Al contrario, ricordo un momento in cui ti sentivi pienamente connesso con la vita e con tutti i suoi esseri In quei momenti sentivi il cielo e la terra al tuo fianco Come se fossi capace di muovere le stelle e di manifestare qualsiasi cosa tu avessi voluto Se non avessi ancora mai provato questa sensazione, caro lettore, non disperare Sono qui per questo Per mostrarti una via e per riuscire a farti diventare un maestro creatore e consapevole di ciò che crea A mano a mano che si invecchia, tal'energia vitale diminuisce Spesso a causa di una progressiva mancanza di motivazione nel vivere Quando l'anima si accorge penosamente che il tempo sta inesorabilmente volando via Ed il sipario si chiuderà un giorno senza aver mosso un solo passo verso il fine dell'esistenza dell'individuo che anima Ed è per questo che le persone felici realizzate vivono di più In quanto hanno motivo di esistere Tuttavia, esistono sempre momenti e giornate di questo tipo Anche per l'essere più vitale Se un'eccezione diventa una regola, occorre capire il perché chiedendosi Dove posso trovare la mia passione di vivere? Cosa mi renderebbe veramente felice? Cosa riempirebbe la mia anima? Di certo la risposta non arriverà istantanea Specie se la domanda è posta a una tantum ed in maniera distratta Occorre anche qui una motivazione dietro la motivazione Ovvero a sapere cosa volere Per questo occorrerà sintonizzarsi con la propria anima E quindi con la propria visione Come mostrato in questo libro Occorre potenziare la propria vista interiore Uscendo dalla miopia sociale che allontana l'individuo da se stesso Rendendo uno uguale a tutti E privandolo del messaggio e dell'opera di cui ciascuno diventa portatore nella sua vita Come si diventa quindi creatori potenti e consapevoli? Si diventa creatori potenti e consapevoli Diventando creatori della propria visione E portando alla luce se stessi Riconnettendosi con le esigenze della propria anima In questo modo i nostri pensieri saranno più potenti e focalizzati In quanto saranno riconosciuti come veri ed autentici Il secondo passo Dopo aver trovato se stessi attraverso la riappropriazione della propria visione Sarà quello di potenziare la propria energia e vitalità fisica Attraverso un lavoro sul corpo Questo rappresenta un passo fondamentale per il successo sulla via della creazione consapevole Chi nega il corpo e tutto ciò che influenza il corpo Come l'alimentazione e il giusto allenamento Nega una parte fondamentale di ogni essere fisico Men sana incorpore sano Sta a significare che la mente ed i pensieri proiettano il loro potere creativo Attraverso il potere del corpo Che è energia vitale ed anch'essa creativa Nessun macchinario funziona senza un tipo di propulsione energetica E il corpo umano non fa eccezione Non sono solo le calorie degli alimenti a far muovere il corpo Ma anche la quantità di energia vitale racchiusa in esse Oltre a ciò, il corpo deve fare in modo di essere idoneo e capace di far scorrere tale energia E questo lo si può fare rendendolo un superconduttore di energia Immagina una batteria normale ed una alcalina La maggiore capacità della batteria alcalina dipende dalle sue caratteristiche fisico-chimiche Che le permettono di mantenere più a lungo una carica elettrica energetica Il corpo umano è lo stesso Occorre fare in modo che riesca a far scorrere dentro di sé Una quantità ottimale di energia Non solo per il corretto funzionamento degli organi vitali Ma anche per fare in modo di inondarlo di una base energetica vitale Che gli permetta di dare forza alle idee e ai suoi pensieri In modo che aumentino il loro potere creativo di manifestare nella realtà materiale Accresci e rispetta la tua energia vitale Una delle più grandi e preziose risorse che abbiamo in questo mondo materiale È la scintilla di vita che è in noi Quella che ci permette di aprirci ogni giorno a nuove opportunità di crescita Di condividere chi siamo con gli altri E che ci permette di godere delle bellezze del mondo Se tu ti potessi vedere per un solo attimo Senza quella scintilla di vita che brilla ora dentro te Capiresti immediatamente di cosa ti sto parlando Noi non siamo solo il nostro corpo Ma anche tutto quell'universo che gli scorre dentro A livello di emozioni, desideri, speranze, affetti, amore E un'infinità di altre sfumature che fanno di ognuno di noi una creatura unica Mi accorsi di questo in maniera evidente Quando vidi mio padre incosciente in sala di rianimazione E poi, dopo qualche giorno, esanime su un tavolo Lui era lì immobile Senza tutto quel mondo di spirito e allegria Che lo avevano sempre accompagnato Quando vedi la morte Ti è data l'opportunità di riflettere ancora di più sulla vita E sull'importanza di perseverare quella luce di vita Che ci accompagna nel nostro viaggio Con questo voglio dirti che non esiste cosa più importante Di fare tesoro di ciò che ci tiene in vita La nostra energia vitale Alcuni tengono di più alla propria automobile che al proprio corpo Veicolo principe che ci accompagna letteralmente Ed in ogni momento nel cammino della vita Fanno i tagliandi e i check-up all'automobile Ma non pensano a come fare in modo che il corpo e la sua energia Durino più a lungo e nella maniera più efficiente possibile L'energia vitale ci permette non solo di mantenerci in uno stato di salute Ma anche di radiante vitalità Non è sufficiente mantenere il corpo in vita Nel comune ed errato senso del termine come assenza di malattia Ma occorre permettere ad esso di far risplendere la sua essenza Attraverso emozioni, amore e creatività La vita non è trascinarsi ogni giorno verso un altro giorno Ma fare di ogni giorno una rinascita verso un nuovo orizzonte evolutivo Di crescita e di gioia Uno stato naturale di benessere significa gioire del fatto di essere vivi E di apportare un cambiamento positivo nella propria vita Significa permettere all'anima di parlare attraverso di noi Nelle cose che facciamo, che pensiamo e in cui crediamo Per permettere alla visione autentica di noi stessi di emergere Occorre avere dentro se stessi quel grado di vitalità Che ci tira fuori da una vita stanca, depressa e ripetitiva Verso una vita di crescita, gioia e realizzazione Per fare ciò è fondamentale e necessario Onorare lo spirito vitale dentro di noi Il primo passo è quello di rispettare il proprio corpo Esponendolo il meno possibile ad elementi per esso nocivi E di seguire regole di vita che mantengano e accrescano il suo grado di vitalità fisiologica La fisiologia ha regole e prescrizioni che permettono di innalzare e perseverare Questa preziosa risorsa che è appunto l'energia vitale I principali parametri fisiologici su cui è necessario agire per questo fine Sono l'equilibrio acido-base del corpo ed il suo livello di ossigenazione Il corpo è caratterizzato da uno splendido sistema di autoregolazione La temperatura corporea, il battito cardiaco, l'equilibrio ormonale, il rinnovamento cellulare Sono solo un piccolo esempio di questo splendido equilibrio Il corpo è formato per oltre l'80% di acqua La componente di acqua del nostro corpo ha un suo caratteristico equilibrio di acidità ed alcalinità Quando questo equilibrio viene alterato, ne risentono a cascata tutti gli altri sistemi di autoregolamentazione E tra questi il livello di ossigenazione dei tessuti Quando il corpo si acidifica, chiede una tassa agli altri sistemi fisiologici Sottraendo i minerali tampone, come ad esempio i bicarbonati dal sangue ed il calcio dalle ossa Per fare in modo di neutralizzare il pericolo determinato dalle scorie acide che determinano questo squilibrio Uno degli elementi pagati dal corpo in stato di acidità è un maggiore consumo dell'elemento principe della vita che è l'ossigeno Un corpo acidificato è un corpo fortemente tassato a livello di ossigeno e quindi di preziosa vitalità Il primo passo verso un livello di radianza energetica e creativa è quindi quello di ripristinare il fattore vitale dell'equilibrio acido-base E ciò è possibile lavorando su alcuni fattori come l'alimentazione e l'ossigenazione dei tessuti Alimentazione alcalinizzante Il corpo è un sistema biologico formato da energia Tale livello di energia è fortemente influenzato dal tipo di alimenti che vengono assunti Intervenire sul fattore alimentare è uno dei mezzi più diretti per influenzare non solo il livello di energia e benessere di un individuo Ma anche il suo grado di connessione con se stesso e con il mondo Quando ci si sente scarichi è difficile avere idee creative ed avere la spinta sufficiente a superare se stessi ed i limiti della propria visione Ogni alimento, dopo essere stato metabolizzato, crea nel corpo una reazione acida o alcalina Influenzando il suo equilibrio acido-base Gli alimenti vengono divisi in base a questa reazione prodotta nel corpo Dato che siamo formati per circa l'80% di acqua Essere immersi in un ambiente alcalino, tra sangue, liquido intra- ed extracellulare, nonché gli stessi tessuti Permetterà al corpo di mantenere il flusso di energia Il corpo possiede dei sistemi tampone per neutralizzare gli acidi prodotti dalla loro metabolizzazione Rilasciando minerali come il calcio osseo ed altri elementi Una volta esaurite le scorte di minerali alcalinizzanti Il corpo tende a mettere da parte tali acidi in determinate zone del corpo come il tessuto connettivo e gli organi stessi Una volta reimmesse e ripristinate le basi nel corpo attraverso un'alimentazione alcalinizzante Il corpo potrà disintossicarsi dagli acidi accumulati Un'alimentazione prevalentemente vegetariana Permette al corpo di produrre come residui metabolici una bassa quantità di acidi E di avere a disposizione una grande quantità di minerali tampone Che neutralizzino la componente acida e che preservino l'equilibrio acido-base Tali minerali sono il calcio, il sodio, il potassio, il magnesio, il ferro, oltre ai bicarbonati Chimicamente occorrono quattro porzioni di minerali alcalinizzanti per neutralizzare una parte di acido Quindi il rapporto ottimale da mantenere idealmente per preservare tale equilibrio È un'alimentazione che abbia un rapporto 20-80 tra alimenti acidificanti Carne, carboidrati, zuccheri, formaggi, caffè, alcolici, bevande gassate E alimenti alcalinizzanti, verdure come gli spinaci e alcuni tipi di frutta Anche l'acqua ha un ruolo fondamentale nella rimozione degli acidi attraverso gli organi e montori principali Polmoni, reni, pelle, quindi attraverso la respirazione, l'urina e la sudorazione È quindi importante favorire un ricambio dell'acqua del nostro corpo come lo si farebbe per una pianta in un vaso È importante bere almeno un litro e mezzo di acqua pura al giorno, fino ad oltre due litri Dipendentemente dal proprio peso corporeo, dalla stagione dell'anno e dall'attività fisica svolta Con un corpo vitale in forma, è più facile trovare dentro se stessi la forza di abbracciare e seguire la parte più alta di se stessi Rappresentata dai propri sogni più grandi Da una posizione di armonia ed equilibrio interiori, sarà naturale far riverberare all'esterno la propria vitalità Ed il proprio amore per la vita e per le sue infinite possibilità Ossigenazione L'ossigeno è un componente fondamentale per la vita e può essere a ragione definito come la scintilla della vita Dal suo corretto equilibrio nel corpo umano dipende il grado di salute e di vitalità Nell'ottica del benessere e dell'armonia psicofisica, presupposti fondamentali da cui partono scelte motivate e consapevoli verso la propria visione più autentica L'ossigeno acquista un'importanza fondamentale Non solo la vita dipende dalla sua presenza nel corpo, ma anche lo stesso livello di vitalità e di connessione con la propria parte più profonda Per questi motivi, in tutte le tradizioni ascetiche che prevedono il contatto con il divino La respirazione, qui intesa come ossigenazione, rappresenta una via maestra Pratiche come il pranayama, il rebirthing, la respirazione olotropica e generalmente tecniche di respirazione consapevole Permettono di portare il corpo in uno stato tale da favorire il contatto transpersonale con il proprio sé superiore È proprio da questo contatto che si riesce progressivamente a vedere la vita con gli occhi della propria verità più intima Tesa verso il proprio benessere superiore La giusta quantità di ossigeno deve essere quindi necessariamente offerta all'organismo, soprattutto attraverso la respirazione A questo scopo, le due vie più veloci per aiutare l'organismo a ristabilire una giusta percentuale di saturazione nel sangue e nei tessuti Sono l'allenamento aerobico e la respirazione consapevole Allenamento aerobico L'allenamento aerobico è un tipo di allenamento poco faticoso e poco impegnativo dal punto di vista muscolare che permette di aumentare la quantità di ossigeno circolante nel sangue e la sua saturazione nei tessuti Questo tipo di training favorisce il riequilibrio del pH e una graduale disintossicazione attraverso l'eliminazione di scorie acide e tossine attraverso la respirazione, acidi volatili e la sudorazione La regola d'oro in questa fase è allenare il cuore a bassa intensità, in quanto non si deve produrre acido lattico un sottoprodotto del metabolismo anaerobico che prevede un elevato livello di impegno e di sforzo fisico che abbasserebbe il pH dell'organismo, influendo anche sul livello di saturazione dell'ossigeno Può essere scelta qualsiasi attività di bassa intensità, come la corsa lenta, la camminata veloce, il nuoto di fondo, camminata in bicicletta, ecc. purché si rispetti la condizione fondamentale che è il piacere di praticarlo, essendo un esercizio molto blando e muscolarmente poco impegnativo Esistono particolari formule per valutare in maniera precisa se si è in regime aerobico o meno ma il modo più semplice e immediato è quello di valutare la propria intensità di respirazione durante l'esercizio Se si è in affanno e non si riesce a parlare durante l'allenamento aerobico, vuol dire che si è in fase di affanno e di conseguenza si è oltre la soglia di ossigenazione dell'organismo La regola è quindi quella di ossigenarsi ad un'intensità tale da permettere di avere un feedback positivo attraverso la propria capacità di parlare Respirazione consapevole La pratica di una respirazione consapevole circa l'ampiezza della fase di ispirazione ed espirazione porta a notevoli benefici per l'organismo, contribuendo a riequilibrare il pH e ad aumentare il livello di ossigeno in saturazione Si veda in dettaglio l'esercizio Libera il respiro per liberare lo spirito Benefici ulteriori dell'ossigenazione 1. Disintossicazione generale dell'organismo 2. Dimagrimento naturale e fisiologico, utilizzo dei grassi come substrato energetico 3. Aumento dei livelli di energia e vitalità 4. Maggiore resistenza allo stress 5. Aumento della prontezza e della chiarezza mentale 6. Aumento della capacità di recupero in caso di intensi sforzi fisici e mentali, sia derivanti dallo sport che dalla vita quotidiana 7. Aumento della positività e motivazione nella propria vita 8. Aumento dello stato di benessere psicofisico, fattore fondamentale per trovare e seguire la propria visione e per dare energia al proprio focus immaginativo 8. Respirazione trascendentale 9. È stupefacente come il segreto per accedere ad uno stato alterato di coscienza che permetta la connessione con uno stato di supercoscienza sia stato sempre alla portata dell'uomo di tutti i tempi e di come solo in pochi si siano accorti di questa straordinaria possibilità di trascendere i propri limiti ed accedere ad una via maestra di evoluzione spirituale e benessere psicofisico. Il segreto è sempre stato sotto i nostri occhi, o meglio sotto al proprio naso, se si considera il fatto che si tratta di utilizzare una funzione semplicissima come la respirazione. Ho coniato il termine respirazione trascendentale in quanto tale tipo di respirazione ha delle caratteristiche di esecuzione particolari che la differenziano dal tipo di respirazione che ogni essere vivente esegue in maniera inconsapevole e che, nella maggior parte dei casi, basta solo a mantenere le funzioni psicofisiologiche di base. Il termine trascendentale si riferisce al fatto che tale tecnica di respirazione ha come fine, oltre a quello di ossigenare il corpo, quello di raggiungere uno stato di beatitudine e di benessere diffuso attraverso il progressivo distacco della consapevolezza cosciente con le funzioni e le percezioni corporee. A mano a mano che il corpo si distacca dalle interferenze dei segnali del corpo e dalle interferenze dei pensieri, si raggiunge automaticamente uno stato meditativo capace di donare al corpo, alla mente e allo spirito, una spinta di rinnovato benessere e vigore, oltre ad una sempre maggiore connessione spirituale con tutti gli esseri viventi e la manifestazione materiale. Ci si sente parte di un tutto e si prova una forte sensazione di pace e di armonia. Una tecnica semplice, potente e facilmente accessibile da ciascuno. Uno dei punti positivi di questa tecnica meditativa è che è facilmente eseguibile da tutti, a costo zero, in ogni luogo, e soprattutto, se eseguita con impegno, con risultati assicurati in ogni seduta. La respirazione trascendentale è quindi una tecnica che è efficace proprio perché permette di arrivare a uno stato benefico meditativo attraverso un processo del tutto fisiologico come quello della respirazione, e quindi in maniera controllabile. Non si chiede, come in altri tipi di meditazione, di sedersi in un luogo tranquillo e di abbandonare progressivamente i pensieri, operazione questa spesso difficile per la maggior parte delle persone. Si chiede solo di eseguire la tecnica in maniera del tutto sistematica, come eseguire un movimento sportivo o un'azione semplice e ripetitiva come mettere un passo davanti a un altro. Corpo, mente e spirito sono interconnessi, e stimolando in maniera specifica il corpo, si arriva a raggiungere strati sempre superiori di coscienza, fino a risalire a uno stato di trascendenza e puro benessere, gioia e amore. La tecnica di respirazione trascendentale è estremamente potente e nello stesso tempo estremamente semplice da eseguire. Rappresenta una via di accesso al benessere e all'evoluzione personale, oltre a rappresentare una via diretta alla manifestazione dei propri desideri attraverso l'utilizzo cosciente della legge di attrazione. La respirazione trascendentale permette alla coscienza individuale di diventare uno specchio pulito, in modo da riflettere più facilmente e in maniera naturale il riflesso dei nostri desideri nel mondo, permettendo una velocizzazione del processo di manifestazione consapevole. Pulizia emozionale e sintonizzazione vibrazionale La legge di attrazione permette ad ogni individuo di attrarre in maniera consapevole o inconsapevole la propria realtà attraverso la sintonizzazione vibrazionale con i propri desideri e aspirazioni profonde. La manifestazione dei desideri è direttamente proporzionale non solo al grado di chiarezza e di focalizzazione degli obiettivi. Vedi la tecnica della realtà virtuale nella sezione pratica, ma anche alla capacità di riflettere in maniera pura e innocente, senza interferenze, lo stato o emozione che si vuole vivere e manifestare nella realtà individuale. Le interferenze sono costituite dalle credenze e convinzioni, dai pregiudizi e dalle paure che, radicate nella coscienza dell'individuo, causano una distorsione del segnale vibrazionale diretto a creare una risonanza e attrazione nel mondo materiale e individuale. Il mondo materiale riflette principi mutabili presenti a livelli superiori di realtà e per rendere chiaro il concetto di come si possa velocizzare la manifestazione dei propri desideri attraverso la pulizia e rimozione delle zavorre, delle credenze contrarie all'obiettivo, le paure, si pensi come esempio a come si possa migliorare la progressione di un aeroplano. Per fare in modo che un aeroplano raggiunga più velocemente e con minor sforzo una meta, occorre non solo lavorare sulla potenza dei motori, ma anche diminuire il suo peso e ottimizzare la sua aerodinamicità. Rapportato alla coscienza individuale, per fare in modo che le nostre mete e obiettivi siano più facilmente e velocemente raggiunti a livello vibrazionale e consapevole, attraverso la legge di attrazione, non basta semplicemente aumentare il focus, fase attiva della manifestazione, come ad esempio scrivere gli obiettivi e utilizzare l'immaginazione creativa, vedi tecnica della realtà virtuale, ma occorre diminuire progressivamente tutte le zavorre mentali ed emozionali contrastanti che pesano sulla coscienza, ostacolando la progressione verso una istantanea manifestazione del desiderio, credenze negative e paure. Lo scopo è quello di pulire la coscienza fino a farla diventare talmente pulita e lucida da riflettere in maniera automatica e senza alcuna resistenza ogni desiderio ed emozione dell'individuo. Questo è il segreto dietro al segreto. Il segreto della manifestazione consapevole è quindi duplice. Da una parte c'è una fase attiva di creazione, attraverso l'immaginazione creativa e la focalizzazione consapevole. Dall'altra c'è una fase passiva di permettere alla propria coscienza di riflettere senza ostacoli i propri desideri e le proprie emozioni, che riverberano poi nell'universo e che, attraverso la legge di attrazione, ricapiteranno quanto chiesto con il processo attivo di manifestazione. Il processo sottostante alla manifestazione è quindi quello di pulizia interiore dalle resistenze e che permette quindi un fluido allineamento con l'oggetto della richiesta o manifestazione. Il processo passivo di manifestazione e quindi di pulizia progressiva della coscienza dalle resistenze inconsce e allineamento vibrazionale con il desiderio può essere raggiunto in maniera diretta attraverso il raggiungimento di uno stato di connessione e diffusione con uno stato di trascendente beatitudine prodotto con l'accesso ad uno stato superiore di coscienza, in molte tradizioni esoteriche, religioni e nella stessa psicologia definite con nomi di coscienza cosmica, stato di beatitudine, Dio, supercoscienza, ecc. Accedere a questo stato e allinearsi ad esso in maniera sistematica e cosciente nella propria vita permette l'accesso al campo delle possibilità in cui la manifestazione consapevole dei desideri diventa automatica, naturale e senza alcuno sforzo. È questa la prerogativa di un uomo o di una donna che siano in contatto con la fonte e che siano un riflesso più o meno fedele di essa. La respirazione trascendentale è uno degli strumenti più facili, semplici e diretti per accedere a questo stato e per permettere di sciogliere le resistenze interiori che ostacolano alla propria coscienza il riflettere in maniera chiara e cristallina i propri desideri e la loro manifestazione. Solo la pratica individuale e l'impegno personale possono permettere ad ognuno di provare quanto finora affermato. La sola lettura di uno spartito non permette alla melodia di risuonare, come invece avviene quando si prende in mano uno strumento e si inizia a suonare. Connettersi e allinearsi con uno stato trascendentale superiore è come imparare uno sport o suonare uno strumento. Occorre una pratica costante della tecnica e permette con il tempo di gioire degli straordinari risultati. Con l'aumento di fenomeni di sincronicità e serendipità attraverso la manifestazione di stupefacenti coincidenze verso la manifestazione dei propri obiettivi e desideri consapevolmente attratti, si proverà una sensazione di stupore, gioia e potere personale attraverso la creazione intenzionale e consapevole. Integrazione psicosomatica e manifestazione Nella pratica della respirazione trascendentale, per il raggiungimento di uno stato di beatitudine e di benessere fisico, mentale e spirituale, si potranno incontrare all'inizio alcuni ostacoli, che rappresentano la prova che sia necessario un lavoro progressivo di pulizia emozionale ed allineamento con uno stato di coscienza superiore. L'aumento della frequenza respiratoria e della sua intensità porta in pochi minuti ad una migliore ossigenazione dei tessuti, sangue compreso, e ad un aumento del pH corporeo, facilmente riscontrabili mediante esame ossimetrico e la misurazione del pH urinario con cartine tornasole. A tale variazione di due parametri vitali del grado di perfusione dell'ossigeno e dell'aumento del pH, si potrebbero ricondurre gli stati di tensione fisica, stato di tetania agli arti e alla bocca provocati dall'aumento della frequenza dell'intensità respiratoria durante la respirazione trascendentale. Tali stati di forte e involontaria ipercontrazione delle mani, spesso tenute ad artiglio, nelle gambe e sulla bocca, dove le labbra si trovano in posizione di contrazione ad anello, sono conosciuti in medicina come fenomeni di contrazione tetanica dei muscoli, in cui il muscolo è involontariamente tenuto in una fase di continua contrazione, spesso dolorosa. Dal punto di vista psicosomatico e bioenergetico, tali segmenti corporei, la bocca, le gambe e le mani, sono i punti di contatto e di interazione dell'individuo con gli altri e con il mondo, rappresentando una probabile problematica sottostante. Tali contrazioni devono essere considerate dei veri e propri blocchi psicofisici ed emozionali con il mondo esterno. In presenza di tali blocchi durante la respirazione trascendentale, sarà necessario continuare la respirazione fino a che si sentirà un progressivo rilascio di tali tensioni, segno questo di una vera e propria integrazione e liberazione da tali blocchi inconsci. La personalità dell'individuo sarà quindi liberata da tali bagagli emotivi, spesso inconsci e non conosciuti, verso una maggiore fluidità caratteriale e relazionale dell'individuo. Sarà facile constatare un aumentato stato di benessere psicofisico. Segno questo che il corpo è ora libero da tensioni emotive inconsce bloccate nella muscolatura. Crisi di pianto e sblocco emozionale Durante la fase di aumentata e sostenuta ventilazione polmonare, è possibile arrivare ad un'ulteriore fase di sblocco psicosomatico attraverso il pianto. Il pianto, come lo sbadiglio, è e dovrebbe essere una fase di risposta automatica del corpo e dello stato emotivo. Ma spesso, per numerose ragioni collegate alla soppressione dell'individuo o dei suoi stati emotivi, quante volte si trattiene la rabbia o l'emotività? Si arriva a relegare tali emozioni in recessi nascosti della coscienza. Tale soppressione non cancella le emozioni inespresse, ma le accumula pericolosamente nel corpo e nella coscienza stessa dell'individuo. Ogni sblocco di pianto raggiunto con la respirazione forzata porta quindi ad uno stato di liberazione da tali tensioni inconsce, contribuendo ad uno stato di enorme benessere e di beatitudine. Rilascio di memorie bloccate Il lavoro di pulizia emozionale e di riequilibrio energetico dell'individuo attraverso qualsiasi tipo di respirazione forzata può portare spesso a vivere determinate visioni, immagini ed emozioni spesso collegate ad un vissuto sconosciuto. Lungi dallo spiegare la ragione e l'origine di tali scene e immagini, è necessario riviverle per quanto drammatiche o fantastiche possano sembrare al soggetto cosciente che in fase di respirazione vive come se fossero attuali e come se ci si trovasse nuovamente immerso. Continuare a respirare forzatamente durante questi vissuti e immagini porta gradualmente al rilascio di tali manifestazioni mentali ed emozionali, portando al loro rilascio e integrazione. La coscienza sarà quindi alleggerita da emozioni e situazioni immaginarie o vissute in un passato ormai perso nel tempo, ma sempre attuali nel corpo e nella coscienza dell'individuo stesso. Dalla sofferenza alla beatitudine Tali stati e reazioni psicosomatiche sono il segnale che esiste una necessità di integrazione e rilascio di tali emozioni e ricordi repressi e ingabbiati nell'individuo. Un lavoro progressivo con una tecnica semplice, gratuita, ma straordinariamente potente come la respirazione forzata porterà con il tempo l'individuo a vivere la propria vita in maniera più serena, chiara e rilassata, oltre al permettere all'individuo di acquisire le qualità del suo fisico e della sua mente per portare, grazie alla respirazione, al raggiungimento di stati superiori di coscienza e all'esperienza di uno stato di beatitudine e potremmo definire di coscienza cosmica. Vivere lo stato di beatitudine e di coscienza cosmica Lo scopo ultimo del lavoro di respirazione trascendentale è appunto un riequilibrio psicofisico-energetico che porti a vivere, dopo la rimozione di tutti gli ostacoli e blocchi emozionali, uno stato di supercoscienza. Tale stato di supercoscienza, in cui l'individuo, seppur cosciente nello stato di respirazione, si distacca progressivamente dalle influenze del corpo, si rivela come uno stato di pura beatitudine e di benessere ed amore diffuso. Paure, credenze limitate e blocchi emotivi si sciolgono come neve al sole, permettendo un allineamento automatico con i propri desideri e permettendo ad essi di manifestarsi nella realtà materiale, non essendo più bloccati e frenati. Quando l'individuo è allineato e integrato con i propri desideri, grazie alla pulizia emozionale e dalla progressiva esperienza di uno stato di supercoscienza e beatitudine, il potere di manifestazione consapevole fluisce liberamente e manifesta nella vita dell'individuo con una velocità spesso stupefacente e sbalorditiva. La sincronicità di eventi apparentemente casuali che si manifestano in seguito alla pratica della respirazione forzata sono la sicura prova che si sta attraendo con maggiore efficacia e velocità attraverso la legge di attrazione. Lo specchio della coscienza individuale risulta più nitido e pulito, quindi maggiormente integrato e capace di riflettere naturalmente e liberamente i desideri focalizzati. sviluppa i tuoi sensi interiori sistema di guida emozionale e intuizione l'essere umano è una straordinaria creatura che nasce con grandiose capacità ma che pochi utilizzano e ne fanno uso il risultato è che tali capacità si affievoliscono a mano a mano che non vengono utilizzate come per gli organi sensori che tutti riconosciamo vista, udito, tatto, gusto olfatto si affievoliscono dal non uso o dal cattivo uso la stessa cosa avviene per gli altri sensi interiori che in pochi riconoscono, sviluppano e ne fanno uso. Facendo quindi consapevole uso di questi sensi superiori se ne riesce a perfezionare il funzionamento e ad utilizzarli nella propria vita. Oltre ai 5 sensi normalmente riconosciuti ne esistono altri di natura più sottile che una volta accettati come corredo umano possono portare l'individuo a livelli di percezione superiori. Immagina di sapere prima di conoscere oppure sentire a livello emotivo qualcosa prima che accada. Sono strumenti di lusso per l'essere umano che non sa di averli o ha dimenticato di possederli. Questi sensi sono come delle spie ed indicatori che possiedono solo le automobili più costose e sofisticate. Non utilizzare questi sensi superiori è come andare in giro per la vita con le sole spie della benzina e della temperatura dell'olio quando potremmo avere un sistema GPS per trovare la giusta direzione di vita e una mappa con i punti di ristoro, i distributori di carburante e molto altro. La società attuale in cui scrivo condiziona l'essere umano a fare affidamento solo sugli input esterni, visibili e toccabili, allontanandolo dal miracolo di sistemi guida ultra sofisticati che trascendono addirittura il tempo e lo spazio, essendo il tempo e lo spazio solo funzioni della vita materiale e non di quella multidimensionale. È come se andassimo in giro con un metro e una bilancia per catalogare e capire la vita, quando abbiamo a nostra disposizione altri ben più sofisticati sensi di misurazione. Immagina di avere a disposizione, oltre a una ipotetica bilancia e a un metro di misurazione anche un sensore ad infrarossi per riconoscere la temperatura di un essere vivente, avere un satellite che ti dice altre informazioni e una vista che vede anche in situazioni di buio. Questo è solo un esempio materiale per farti comprendere l'opportunità che hai di diritto come essere umano materiale, confinato nei cinque sensi riconosciuti e accettati, di avere, sviluppare e utilizzare capacità ben più estese, verso l'incarnazione di un essere umano multidimensionale che ha accesso ad una serie di informazioni più complete ed affidabili. Tra questi sensi superiori a disposizione dell'essere umano, che vengono riconosciuti e sviluppati man mano che l'essere umano riconosce la sua vera natura di essere multidimensionale, ci sono il sistema di guida emozionale e l'intuizione. Il sistema di guida emozionale. Quanti errori eviteremmo se esistesse un modo per evitarli fin dall'inizio? Quanti successi potremmo raggiungere con maggiore facilità se sapessimo quale via di minore resistenza intraprendere? Anche se gli errori fanno parte della vita verso l'esperienza e della crescita personale, esiste un modo per limitarli il più possibile sviluppando una consapevolezza ed una capacità di sentire interiori che ci diano un segnale anticipato su cosa fare e cosa non fare per il nostro bene e quello altrui. Il senso interiore di cui sto parlando è il sistema di guida emozionale. Le nostre emozioni sono il segnale a cui dobbiamo prestare attenzione quando vediamo scorrere davanti a noi le immagini della realtà attuale o immaginiamo i futuri potenziali che ci si prospettano. Quante volte ci siamo detti lo sapevo dentro di me, me lo sentivo oppure dovevo dare retta alle mie sensazioni? La nostra capacità di sentire va ben oltre i limiti di valutazione mentali prodotti dall'analisi dei fatti esistenti al momento presente, quei fatti che altro non sono che il frutto di una valutazione tridimensionale. Il nostro sapere interiore va ben oltre i confini dei cinque sensi. Le emozioni sono i segnali che la nostra anima, collegata con limiti non fisici, ci invia per darci una direzione più esatta e consona al suo più alto e preciso punto di vista. È come guardare una scena dall'alto, vedere oltre montagne e colline che nasconderebbero la nostra visuale se fossimo sul territorio, proprio come avviene quando siamo sul campo e non vediamo oltre la nostra vista, il nostro olfatto e il nostro udito. Affidarsi al nostro sistema di guida emozionale vuol dire affidarsi ad un sistema di valutazione più ampio e preciso. La cosa strana è che ci fidiamo di ogni strumento meccanico ed elettronico di valutazione dando per scontata l'indicazione come il contachilometri della nostra automobile, l'indicatore della velocità o il GPS, quando invece dubitiamo o non prestiamo attenzione ai nostri preziosi indicatori multidimensionali di direzione. Per utilizzare pienamente il nostro sistema di guida emozionale occorre prestare attenzione alla sensazione che un determinato pensiero e una determinata circostanza ci trasmette. Cosa mi trasmette il pensiero di quella persona? Come risuona dentro me stesso quel pensiero? Quale emozione mi dà il pensiero di iniziare quel progetto? Paura, dubbio o entusiasmo al di là di qualsiasi ostacolo che ci possa essere al momento. Dietro a un muro forse può nascondersi un sentiero immerso in un bellissimo paesaggio. Questo paesaggio può rappresentare la nostra vita e la nostra visione. Una volta dato credito ai nostri sensi interiori e al nostro sistema di guida emozionale che ci dice che da qualche parte ci debba essere una via, una porticina, una scala, un passaggio per attraversare quel muro che ora ci divide dal sentiero della nostra visione di vita futura. Il bel paesaggio, appunto. La mancanza di attenzione può portare a ignorare quei segnali interiori che possono aiutarci a non prendere strade che non ci appartengono e che non ci portano al nostro massimo bene. È meglio non percorrere strade che poi è necessario ripercorrere a ritroso. Si rischia di perdere tempo ed energie, causando male a se stessi e dagli altri. La domanda è quindi sei disposto a investire su poteri interiori e che ti appartengono per natura? Sei disposto a lavorare sui tuoi sensi interiori che ti permetteranno di vivere una vita più ricca e gioiosa sotto tutti i punti di vista? Non occorrono soldi da investire, solo decidere di prestare attenzione al proprio mondo interiore di sensazioni e di andare avanti con fiducia sulla strada della propria visione di vita. Troppi artisti muoiono facendo cose per cui non sono nati. Troppi uomini e donne vivono all'ombra di una vita che non segue quella del loro massimo potenziale. La tua vita non è quella che la società ti impone, ma quella che scegli giorno dopo giorno seguendo te stesso. Fermati ogni giorno ed esplora i possibili potenziali della tua vita. Non aver paura di chiedere di più da te stesso e dalla tua vita. Se sei nato fabbro perché nasci da una famiglia di fabbri, puoi diventare qualsiasi altra cosa tu senta profondamente di diventare a dispetto della tua momentanea realtà. Unica regola è ascoltare i tuoi sensi interiori e quello che ti comunicano. Le emozioni possiedono ragioni che la ragione non conosce. Abbi il coraggio di prestargli orecchio e di seguire i loro sussurri al di là di ciò che la società vuole farti credere come giusto, convenevole o di successo. Il primo vero successo è quello di seguire se stessi. Tutto il resto ti verrà dato come conseguenza, se lo vorrai veramente e con la giusta intenzione. Seguirai te stesso imparando ad ascoltare e a seguire il tuo sistema di guida interiore. Come per l'apprendimento di un nuovo sport o di una nuova professione, con la pratica e la dovuta attenzione, i margini di errore di valutazione diverranno sempre di meno, portandoti alla piena maestria di nuove abilità e capacità di percezione verso una vita più piena, ricca e maestosa. Questa è la strada verso il tuo innato potere interiore e pieno potenziale. Abbi coraggio di seguire la tua visione. Fermati ogni giorno ed esplora i possibili potenziali della tua vita. Esercita la tua intenzione. L'intenzione è il primo strumento della creazione consapevole. Per mezzo di essa è possibile spostare e muovere venti, circostanze e portare nella nostra vita la magia della sincronicità, ovvero fare in modo che la vita diventi un'orchestra accordata al nostro là. La capacità di indirizzare la propria intenzione in maniera cosciente e consapevole è una facoltà data all'essere umano per indirizzare la propria vita nella direzione voluta. Una volta che si inizia ad incanalare la propria intenzione si vedranno cambiamenti sorprendenti nel processo apparentemente casuale delle cose e degli eventi, in quanto si influisce volontariamente nel campo delle possibilità. L'intenzione è un processo attivo e mai passivo, di inclusione e mai di esclusione. Per comprendere il concetto basti pensare ad essa come ad un fascio di luce che noi proiettiamo in una vasta, immensa stanza in penombra che rappresenta l'universo della pura potenzialità della manifestazione dove esistono già allo stato potenziale tutti gli eventi, le possibilità, le sensazioni, le emozioni e gli oggetti materiali di un vasto potenziale di combinazioni che aspettano solo di essere scelte, di essere accese. Con la nostra intenzione, rappresentata da una torcia luminosa, noi accendiamo e illuminiamo quelle zone della pura potenzialità delle combinazioni di vita, richiamandole nella nostra individuale e soggettiva esperienza di vita. Per essere maestri nel processo creativo e manifestare solo le cose volute e mai quelle non volute, occorre esercitare saggiamente il nostro potere di scelta, ovvero di attirare nel processo di manifestazione nel mondo materiale solo le cose che si vogliono. Sembra un concetto palese, ma molte persone, tramite le loro paure e preoccupazioni, rivolgono la loro attenzione nelle zone della stanza delle possibilità dove risiedono proprio gli accadimenti che temono e vogliono evitare. La loro intenzione, pur non essendo propriamente volontaria, indirizza e illumina con l'attenzione proprio quelle zone della stanza che si vorrebbero evitare. L'intenzione cosciente, al contrario, richiede un impegno ad indirizzare in maniera cosciente e consapevole la propria energia mentale solo in direzione delle cose volute. In questo senso, chi cerca, trova e chiedi e ti sarà dato. noi chiediamo con l'intenzione di avere, essere, sperimentare e diventare, indirizzando consapevolmente la nostra attenzione solo a ciò che desideriamo e vivendo in anticipo a livello virtuale quella stessa realtà a cui si anela mediante il processo del focus immaginativo, che rappresenta il secondo passo nella via della maestria creativa. L'intenzione è la nostra redenzione. Tramite essa abbiamo la facoltà preziosa e lussuosa di scegliere le nostre esperienze di vita e di vederle manifestarsi nel gioco del dispiegamento creativo, prima come pure coincidenze e poi nella chiara e netta sensazione che le cose stanno andando proprio come le abbiamo indirizzate nella nostra mente. L'intenzione è come un muscolo della coscienza, va esercitato per svilupparlo e far sì che risponda sempre in maniera più pronta e precisa alle proprie richieste. Come tutti i processi di apprendimento all'inizio risulterà più difficile ma a mano a mano e con la pratica il processo di illuminazione delle zone della realtà che vogliamo accendere e portare nella nostra realtà diventerà sempre più facile regalando non solo la manifestazione di ciò che si desidera ma anche quella sensazione di gioia e di trionfo che rappresenta la consapevolezza del proprio essere di essere il re della propria esperienza. L'immaginazione come strumento della creazione metti a fuoco la tua vita La creazione intenzionale della propria realtà e la manifestazione consapevole dei propri sogni e desideri passa attraverso un processo di messa a fuoco mentale ed emozionale il cui strumento principe è l'immaginazione. L'immaginazione è uno straordinario strumento creativo dato all'essere umano per creare la propria realtà. che ne siamo consapevoli o meno le nostre visioni interiori le nostre aspettative le nostre credenze le nostre paure sono tutte proiezioni della coscienza verso una realtà che prima o poi diverrà manifesta nella vita dell'individuo. Il futuro è come una serie di immagini sfocate che a mano a mano attraverso la lente dell'immaginazione vengono messe a fuoco e portate a manifestarsi nella realtà. tali immagini diventano sempre più a fuoco a livello emozionale nella coscienza e diventano a mano a mano un continuum spazio-temporale che si trasforma poi nel proprio adesso. La manifestazione consapevole della propria realtà che sia un sogno un desiderio una paura o un'aspettativa positiva su qualcosa come un evento o un fatto passa attraverso un processo di messa a fuoco immaginativo di una immagine sensazione o emozione che gradualmente viene messa a fuoco e fissata nella coscienza dell'individuo. Dato che la realtà materiale che coinvolge ogni essere umano è costituita dalla proiezione della sua coscienza o consapevolezza ne consegue che influenzando la coscienza stessa attraverso determinati processi mentali ed emozionali si riesce a scrivere consapevolmente sulla pellicola interiore o nello script interno tutto ciò che poi traduce fedelmente nella realtà. Il passo fondamentale per manifestare consapevolmente la propria realtà è quindi quello di scrivere consapevolmente il copione della propria vita traducendolo poi in un film reale attraverso la messa a fuoco dei singoli fotogrammi o scene che desideriamo accadano in quel film che noi chiamiamo la nostra vita. Dal momento che ognuno crea in ogni momento ed in ogni istante della propria vita attraverso le proprie immagini mentali che ne sia consapevole o meno il primo passo per creare è quello di mettere consapevolmente all'opera quello straordinario e potente dono che ogni essere umano ha a disposizione ma che ben pochi sanno utilizzare a proprio favore e a proprio beneficio la propria immaginazione ovvero la capacità di mettere a fuoco le scene del proprio film della propria vita quando si diventa chiari sui propri obiettivi sulla propria visione di vita e su ciò che si desidera ottenere nell'ottica del proprio benessere e della propria evoluzione come essere umano è necessario fare in modo che lo specchio della nostra coscienza rifletta solo ciò che desideriamo ciò richiede dapprima uno spostamento del punto focale della propria immaginazione solo su ciò che desideriamo ottenere lasciando da parte eventuali paure o dubbi anche se la paura ha a volte una finalità di mettere in guardia l'essere umano nei confronti di eventuali pericoli un focus immaginativo basato sulla paura ha come effetto che lo specchio della coscienza il quale come già detto riflette fedelmente nella realtà tutto ciò che vede proiettato su di esso manifesti proprio ciò che non si vorrebbe che accadesse al contrario un focus immaginativo sulle immagini e sulle sensazioni di ciò che si desidera realizzare e manifestare farà in modo che si vedano poi riflessi nella realtà le immagini le sfumature i colori e di contesti delle scene mentali visualizzate e messe a fuoco attraverso un processo di focus de focus mentale ed emozionale anche detto focus de focus immaginativo l'immagine da prima sfocata del proprio futuro verrà con il tempo messa a fuoco sempre di più nella propria coscienza e di conseguenza seguirà un processo di manifestazione nella vita reale dell'individuo in questo senso la vita è da prima un sogno sfocato che poi consciamente o inconsciamente viene portato in vita nella realtà manifesta anche se un'immagine mentale acquista sempre più forza con la sua ripetizione nella propria mente tanto da scavare i solchi della propria coscienza per poi manifestarsi una singola immagine mentale o forma pensiero rappresenta già una forma di manifestazione anche se non visibile e concreta l'immagine mentale è come un seme che nel grembo di una donna cresce e si sviluppa giorno dopo giorno fino alla nascita della creatura che rappresenta la sua manifestazione nel mondo reale la creatura esisteva fin dal concepimento e continuava a svilupparsi nel grembo materno l'unione della propria capacità di scelta rappresentata dal proprio intento unita al proprio potere di messa a fuoco della propria vita attraverso un lavoro di costante messa a fuoco immaginativa focus the focus immaginativo rappresenta la via maestra verso la creazione consapevole ed intenzionale della propria realtà colui che crea in maniera inconsapevole lo fa spesso a zigzag procedendo a tentoni ed essendo spesso ostacolato da un focus mal diretto per esempio sulle proprie paure sui propri dubbi e su ciò che non si vuole al contrario chi crea in maniera consapevole e seguendo certe regole della coscienza lo fa in maniera diretta e per la via più breve per questo motivo una volta conosciute le regole di questo gioco chiamato vita spesso si assiste ad una vera e propria rinascita dell'individuo che finalmente e con un senso di gioia ineffabile nell'animo si avvia a diventare l'artista l'attore ed il regista di un potenziale capolavoro che è rappresentato dal film della propria vita la vita diventa quindi gioia libertà realizzazione verso fini che solo la propria immaginazione può limitare la realtà fisica come specchio la realtà fisica è un riflesso di fenomeni e principi metafisici è come la differenza che c'è tra un cubetto di ghiaccio la realtà fisica il corrispettivo di acqua e il vapore il pensiero che sottende alla manifestazione la sostanza di base è uguale ma la sua forma dipende dallo stato di manifestazione in cui si trova al momento per questo motivo è utile utilizzare immagini del mondo materiale per comprendere come funziona il mondo immateriale dei pensieri e della creazione mediante essi tra queste immagini ci sono quelle del tirare con l'arco ed è il sole la lente e il fuoco creare è come tirare con l'arco il processo di tirare con un arco e colpire il bersaglio con la freccia è un perfetto esempio materiale del principio che sottende il centrare un bersaglio immateriale ovvero il raggiungere un obiettivo mediante il processo di creazione intenzionale ciò di cui ha bisogno l'arcere ovvero la persona che vuole raggiungere un obiettivo è di prendere un arco attivando qui la sua intenzione la freccia rappresenta il desiderio di cui si vuole fare esperienza l'atto di tendere l'arco è l'atto consapevole di mettere a fuoco a livello immaginativo il desiderio già raggiunto e vissuto in prima persona e nelle sue varie componenti a livello mentale ed emozionale va sottolineato che un pensiero che non susciti emozioni ha una forza quasi nulla di creare il corrispettivo nella realtà è come tirare con un arco con una corda lenta e poco tesa il risultato sarà che la freccia il nostro desiderio non avrà la forza la spinta necessaria per attivare il processo di manifestazione materiale per questo motivo la componente emotiva ed emozionale è così importante ed è così importante seguire i sentieri del proprio cuore ovvero delle proprie emozioni più grandi e della visione più vera e intima della propria anima il punto fondamentale su cui molti falliscono pagando il prezzo di un mancato raggiungimento dell'obiettivo o di un ritardo nel suo conseguimento è il fatto che danno eccessiva importanza al risultato stesso per cui invece di rilasciare la corda del focus la accompagnano togliendo forza all'atto creativo una volta immaginato il fine raggiunto mediante una focalizzazione immaginativa mirata focus immaginativo occorre lasciare letteralmente la presa sul processo de focus immaginativo come si fa lanciando la corda di un arco dopo averlo teso e aver preso la mira il resto sarà un processo automatico la corda dell'intenzione e dell'emozione mirata e vissuta come evento già esistente anche se per ora solo a livello virtuale lascerà e permetterà che la manifestazione avvenga da sé senza alcun controllo in questa fase che è e deve essere a tutti gli effetti passiva è proprio la fase di rilascio ovvero di abbandono della presa sul risultato finale che permette al risultato stesso di accadere chi è troppo focalizzato sugli obiettivi spesso sbaglia il centro proprio per un eccesso di focalizzazione attiva volendo controllare coscientemente e con eccessiva importanza il raggiungimento del risultato il punto è questo il cerchio si chiude e i risultati si chiudono quando una volta immaginato il fine raggiunto e averlo gustato e apprezzato a livello immaginativo si molla la presa la corda tesa dell'arco e si permette all'arco stesso di rilasciare la sua forza verso il lancio della freccia desiderio e verso la sua manifestazione materiale colpire il centro ogni controllo ulteriore sulla fase finale di abbandono dell'intenzione e dello sforzo cosciente al raggiungimento del risultato non fa che interferire sullo stesso processo a volte basta mollare la presa disperata del controllo la bramosia del risultato che si vedono apparire nella propria realtà messaggi sincronici che ci mostrano un assaggio di ciò che desideriamo questi messaggi sono di grande valore in quanto se siamo pronti a coglierli ci dicono che il nostro approccio alla creazione intenzionale è equilibrato e quindi efficace intenzione abbandono focus defocus tensione rilascio voglio permetto che accada con serenità e fiducia nel processo la sensazione di avere potere creativo sulla propria realtà è esilarante non ci si sente più una barchetta di carta nel mare degli eventi ma parte integrante di un universo armonico che rispetta e onora le nostre scelte creative se solo glielo permettiamo con il nostro atteggiamento di serena aspettativa il processo creativo il sole la lente e il fuoco tutti da piccoli abbiamo giocato con una lente di ingrandimento con la quale davamo fuoco ad un pezzo di carta grazie al potere concentrato e focalizzato dei raggi del sole il processo di manifestazione dei desideri funziona nella stessa maniera come già premesso la realtà fisica rispecchia una realtà di ordine superiore una realtà sottile come se fosse il suo riflesso invisibile utilizzando l'immagine della lente di ingrandimento che brucia un foglio sarà facile capire il funzionamento del focus creativo mentale ed emozionale nella realtà metafisica il sole rappresenta la nostra intenzione la cui intensità ha una grande importanza nel suo stesso potere di bruciare la carta sotto alla lente se il sole è velato da nuvole o da nubi incertezze e dubbi la sua forza non sarà sufficiente a completare il processo di manifestazione la lente di ingrandimento rappresenta il potente strumento che è sempre a nostra disposizione l'immaginazione ovvero la nostra capacità di focalizzare e convergere i nostri pensieri e le nostre emozioni sulla sensazione del desiderio già realizzato la carta rappresenta la tela della realtà sulla quale noi abbiamo il potere di incidere e di scrivere attraverso i nostri pensieri e le nostre emozioni focalizzate è importante sottolineare che parole e pensieri vuoti ovvero frasi ripetute senza un sentimento ed emozione quindi senza una forza sottostante non hanno in sé un potere tale da riuscire a far bruciare la carta e quindi di portare nella realtà ciò che è stato visualizzato con il focus la distanza della lente dal foglio di carta rappresenta invece l'intensità del desiderio che si differenzia dal sole potere di intenzione in quanto si può avere un forte desiderio di essere fare o avere qualcosa ma si può non avere l'intenzione necessaria ad imprimere forza al desiderio stesso in quel caso sarà come essere in barca a vela ed avere il desiderio di andare in una direzione ma nello stesso tempo senza avere il vento di una reale e forte intenzione che spinga le vele verso il compimento del desiderio stesso oppure per rendere ancora meglio l'idea come voler dimagrire stando tutto il giorno su un divano a vedere la tv e ingurgitando patatine fritte e birra il desiderio di fondo c'è ma la spinta dell'intenzione e motivazione è troppo bassa per attivare la volontà e qualsiasi tipo di cambiamenti il processo creativo è un processo semplice ma che necessita di tutti gli ingredienti giusti e dei suoi tempi di cottura defocus immaginativo come aspettativa serena e distacco dal risultato importanza di modulare il desiderio per permettere la sua manifestazione questo rappresenta un punto chiave del processo creativo ed è di importanza fondamentale per permettere che il desiderio si manifesti nella realtà la ripetizione di questo concetto è basilare in quanto è il momento meno compreso dell'intero processo creativo e rappresenta la sua chiave di volta e di svolta come è stato detto le condizioni che consentono al processo creativo di manifestare un desiderio visione sono intenzione di raggiungerlo intensità dei raggi solari focus immaginativo lente di ingrandimento defocus immaginativo aspettativa serena e senza attaccamento al risultato ma come si può inquadrare l'importanza del desiderio in questo processo qual è la sua rilevanza che importanza ha la sua intensità questo è un punto fondamentale la chiave di volta nel processo creativo senza la sua comprensione si rischia di vanificare il compimento del processo stesso il desiderio nell'ottica della similitudine della lente che brucia il foglio è rappresentato dalla distanza della lente dal foglio ovvero dal nostro attaccamento al risultato essere troppo attaccati al risultato quindi dare eccessiva importanza alla situazione o cosa che vogliamo ottenere o raggiungere ostacola il potere del focus e smorza lo stesso potere dell'intenzione disperdendo letteralmente i suoi raggi per rendertene conto prendi una lente di ingrandimento e avvicinala al foglio fino a concentrare i suoi raggi focus in un piccolo punto ora prova ad avvicinare di più la lente il risultato sarà che il punto di focus dei raggi solari si disperderà allargando il centro a mano a mano che avvicineremo la lente alla carta togliendogli potere di concentrazione e focalizzazione la distanza della lente al foglio rappresenta l'intensità del desiderio che spesso purtroppo sfocia in una vera e propria necessità febbrile questo vuol dire che l'intensità stessa va modulata in maniera da non creare attaccamento al risultato come si modula l'intensità affinché non sia eccessiva e controproducente riducendo l'importanza del raggiungimento del risultato e sostituendola con una serena aspettativa che le cose si conformeranno nei loro tempi e nei loro modi alle nostre intenzioni è questo il motivo per cui piove sul bagnato e tutta l'acqua va al mare i soldi vanno sempre al ricco che diventerà sempre più ricco lui non ha la strenua necessità di avere lui non ha attaccamento o quantomeno non lo ha come il povero che non solo chiede con insistenza con un forte attaccamento e una eccessiva importanza ma il potere della sua intenzione è oscurato dai dubbi di essere degno dell'abbondanza o addirittura dalla paura stessa di diventare ricco se pensi che ciò non sia il tuo caso almeno senti e riconosci intorno a te quante persone in fondo a se stesse si negano le cose dicendo dentro di loro questo non è per me non me lo posso permettere questo non è un invito a spendere ciò che non si ha o a possedere cose che al momento non ci si può permettere ma un invito a allargare i propri orizzonti interiori verso un mondo di abbondanza e di realizzazione non è quindi un invito a sperperare ciò che non si ha ma a tesaurizzare ed a mettere a frutto i propri desideri di abbondanza che in ogni caso partono da un cambiamento nella consapevolezza che fa sussurrare dentro anche io posso oppure inizierò a rinunciare al superfluo e a mettere da parte qualcosa ogni mese e a poco a poco costruirò in qualche modo la mia abbondanza modulare l'intensità del desiderio con la fase di defocus immaginativo e di serena aspettativa è quindi fondamentale per non ostacolare la sua manifestazione nella realtà a causa di un eccessivo attaccamento al risultato quante volte hai desiderato strenuamente qualcosa che poi si è realizzata solo quando ci avevi rinunciato l'attaccamento strenuo a far accadere al focalizzare con il cronometro in mano e con i denti stretti porta lontano dalla realizzazione del desiderio i desideri sono come piccioni viaggiatori verso la loro meta quando non vedremo più all'orizzonte il piccione con il nostro desiderio dovremo avere fiducia che starà dirigendosi verso il suo compimento e che non avrà virato da un'altra parte una volta lontano dalla nostra vista qui entra in gioco la fede che non è fede religiosa ma fede nel processo creativo ed espansivo su cui si basa l'universo stesso ridimensionando l'importanza del desiderio il sogno ci verrà incontro seguendo i suoi tempi di manifestazione sarà necessario avere fiducia che qualcosa nell'universo si stia muovendo in nostro favore controllare eccessivamente eventuali segni dell'universo non sarà che una dimostrazione di dubbio e di paura il seme una volta sotterrato e innaffiato uscirà da solo dalla terra e poi fiorirà il contadino dubbioso che scava per vedere lo stato di crescita del seme lo uccide permetti dunque alla tua intenzione e dalla tua immaginazione di dare i loro frutti secondo i loro tempi permettendo la loro manifestazione attraverso la fede nel processo creativo se lanciamo un sasso in uno stagno sappiamo che il sasso prima o poi cadrà nell'acqua grazie alla forza di gravità questo è un processo per noi scontato in quanto è già stato acquisito dai nostri genitori e dai nostri antenati il processo di creazione di attrazione consapevole agisce con leggi sempre esistite ma si basa su paradigmi di esperienza ancora non radicati nella nostra attuale coscienza sociale per cui è facile avere dubbi su di esso ciò nonostante agisce in ogni caso sia se lo utilizziamo a nostro vantaggio in maniera consapevole sia se lo usiamo in maniera casuale e di default e in quest'ultimo caso i risultati potranno non essere conformi alle nostre aspettative le generazioni future beneficeranno un giorno del lavoro che ognuno in questo momento sta facendo cambiando il suo personale paradigma di vita immaginiamo un bambino che nasca con la convinzione di poter influenzare consapevolmente la realtà e oltretutto con un paradigma di esperienza consolidato nei genitori e con una mappa di come fare sta a noi cambiare ora la nostra vita in positivo e in maniera consapevole gettando le basi per una nuova generazione che vedrà la magia personale all'ordine del giorno della propria realtà il processo di permettere che la nostra visione si manifesti è simile al processo di lasciar vedere i propri occhi che è la base di una vista efficiente chi conosce il sistema di rieducazione visiva Power Vision System da me sviluppato sa per esperienza diretta sui suoi occhi che il processo di messa a fuoco visiva è inversamente proporzionale allo sforzo che si fa per vedere più ci si sforza di vedere e più la vista si sfoca al contrario una volta allenati gli occhi occorre permettere agli occhi stessi di vedere e di aumentare la loro messa a fuoco attraverso il rilascio della loro tensione nel vedere lo stesso vale per la manifestazione materiale della propria visione interiore occorre desiderare con intenzione e immaginare positivamente poi occorre affidare tutto al potere creativo affinché faccia il resto con serenità e fiducia questa è l'abilità del permettere della fase di defocus immaginativo la legge dello sforzo rovesciato questa legge afferma che più insistiamo nel voler raggiungere qualcosa e più la allontaniamo da noi a tutti è capitato di volere a tutti i costi qualcosa e più si insisteva e più la cosa situazione o persona si allontanava da noi addirittura provocando scenari opposti alla situazione che avremmo voluto che accadesse questa legge rappresenta a prima vista un paradosso almeno nel modo tradizionale di pensare che vede lo sforzo cosciente l'unica via al raggiungimento di un risultato nel mondo della realtà potenziale è invece perfettamente coerente più ci si sforza volendo forzare a tutti i costi la situazione e gli eventi e più si carica lo scenario delle possibilità con un'eccessiva importanza che allontana inevitabilmente le linee della manifestazione di quella determinata situazione tale legge citata in un saggio del famoso scrittore Aldous Huxley e del noto medico Emil Kue era conosciuta fin dalla notte dei tempi dall'antica filosofia cinese taoista dove si trova l'agire senza agire la si trova perfino nel concetto dei potenziali superflui del transurfing di Vadim Zeland questa legge acquista un particolare valore se la si vuole applicare per influenzare il subcosciente più ci si sforza nel volerlo influenzare e più il messaggio ipnotico parole affermazioni visualizzazioni e altro viene bloccato e filtrato dalla coscienza è per questo il motivo per cui ogni messaggio ipnotico deve passare anzi scivolare come un sussurro per installarsi nella matrice subcosciente nel file di sistema dell'individuo e produrre poi dei risultati nella vita la legge dello sforzo rovesciato è alla base della fase di defocus immaginativo come spiegato in questo libro la fase attiva del processo di manifestazione consapevole qual è il focus immaginativo deve poi lasciare il posto all'aspettativa serena che il prototipo forma pensiero di quello che vogliamo sia in via di manifestazione il classico errore del principiante sulla via dell'apprendimento alla manifestazione consapevole è di utilizzare a proprio completo svantaggio questa importante legge metafisica facendo visualizzazioni forzate e stabilite su orari precisi schematizzando il tutto e volendone fare un impegno forzato anche una sola focalizzazione mentale del desiderio già realizzato e dell'obiettivo già raggiunto è spesso molto più efficace che 100 visualizzazioni forzate che in maniera quasi apparentemente paradossale potranno portare ad effetti opposti a quelli immaginati in base alla legge dello sforzo rovesciato i risultati migliori verranno raggiunti con il minimo sforzo e la minima importanza verso il risultato stesso occorre mantenere dentro di sé la certezza di essere degni di quello a cui si aspira e che in qualche modo l'universo si stia riorganizzando portandoci su quella linea di potenziale manifestazione l'universo è abbondante e pieno di infinite possibilità perché non dovrebbe accontentarci la sensazione da avere è la certezza che si ha la mattina quando si va a prendere un caffè al bar so che berrò il caffè e se anche quel bar fosse chiuso andrò ad un altro dove l'ambiente sarà più accogliente e il caffè ancora più buono in questa consapevolezza vi è assenza di sforzo e la fiducia che in qualche maniera si sarà pienamente soddisfatti occorre lasciare la presa del controllo frenetico sullo scenario noi siamo gli attori del film della nostra vita ma dobbiamo avere fede che il regista sappia come indirizzarci verso un lieto fine in ogni caso dovremo fare la nostra parte con il pensiero focalizzato e l'azione ispirata ma sempre con dentro al cuore una sensazione di intenzione rilassata serena e fiduciosa è a quel punto di rara maestria che vedremo accadere miracoli nella nostra vita differenza tra desiderio sereno e bramosia di risultato più brami qualcosa e più la cosa che desideri strenuamente si allontana da te in quanto dai troppa importanza al risultato ed eventualmente crei uno sforzo eccessivo che non ti permette di scivolare nella variante potenziale di realtà a cui aspiri desiderare con il cuore significa apprezzare quella condizione senza sforzo e con animo sincero e sereno soluzione assapora il risultato raggiunto nella tua immaginazione distaccandoti dal risultato fa in modo che sia un gioco della coscienza un tuo modo personale per giocare con quel determinato settore della realtà che per ora esiste solo a livello potenziale non immaginare con l'intenzione precisa di creare ma per vivere e assaporare quell'esperienza avvicinati con animo giocoso sereno e senza secondi fini all'esperienza ogni sforzo è nemico della creazione intenzionale quando accendi un interruttore della luce non pensi se funzionerà o meno oltretutto usi il giusto impegno muscolare né più né meno senza sforzo spingi semplicemente il dito facendolo scattare allo stesso modo quando sei al ristorante e ordini una macedonia non ti chiedi se il cameriere invece di andare in cucina e dirlo al cuoco se ne va a spasso da qualche altra parte non ti chiedi poi se il cuoco sia capace di prepararla o se il ristorante sia o meno sprovvisto della frutta necessaria lo chiedi e basta e sai e ti aspetti che prima o poi il cameriere te la porti in tavola la stessa cosa vale per la creazione intenzionale chiedi immaginando mai bramando e lasci che l'universo trovi il modo e i tempi per consegnarti quanto hai chiesto chiedi con l'immaginazione focus e attrai con l'abbandono dei risultati e con un'aspettativa serena defocus chiedere senza sforzo e bramosia significa quindi gioire mentre si immagina la potenzialità di ciò che ci piacerebbe vivere mai soffrire se si soffre si sta rivolgendo l'attenzione sulle difficoltà invece che sulla gioia stessa dell'immaginare l'atto creativo per essere efficace deve avvenire senza sforzo come bere un bicchiere d'acqua fresca lo hai chiesto e sai che prima o poi lo otterrai punto immaginare senza attaccamento al risultato crea le condizioni affinché l'evento si verifichi azione ispirata la frase chiedi e ti sarà dato racchiude in sé l'importanza dell'azione giusta racchiude in sé l'importanza dell'azione giusta eseguita nel momento giusto questo implica un'azione ispirata ovvero un desiderio di compiere quella determinata cosa vale sicuramente di più un'azione ispirata che cento azioni eseguite senza un'anima in quello che si sta facendo agire ispirati significa cogliere l'attimo fuggente ovvero l'occasione propizia portataci dal lavoro di visualizzare e soprattutto sentire il desiderio già realizzato agire ispirati significa fare il passo materiale in una situazione già preparata in un background quantistico tramite i nostri pensieri ed emozioni anche se a volte le cose succedono da sole quasi magicamente ma di magia non si tratta ma di legge naturale se vogliamo qualcosa a volte dobbiamo allungare la mano per prenderla fare una telefonata uscire in strada o bussare ad una o più porte mi piace ricordare la frase del vangelo chiedete e vi sarà dato cercate e troverete bussate e vi sarà aperto poiché tutti coloro che chiedono riceveranno tutti coloro che cercano troveranno e a tutti coloro che bussano verrà aperto qui sono racchiusi i passi per la materializzazione di ciò a cui si aspira il chiedere lo si ottiene con una forte intenzione di ottenere quello che si cerca un'intenzione che deve essere libera dalla frustrazione di non avere ancora ciò che si desidera ma con l'innocenza di un bambino che chiede al padre e alla madre papà mamma voglio questo essendo sicuri di ottenerlo e confidando nella grande figura paterna-materna rappresentata dalla forza o campo quantico energia universale il bambino che chiede ottenendo risposta è quello che lo fa senza puntare i piedi per terra ma con un sorriso sulle labbra sentendosi innocentemente degno di quel qualcosa a cui aspira di cui la necessità di mantenere l'importanza al minimo il cercate e troverete include il visualizzare la potenzialità che si desidera che accada come la vogliamo il pregustare qualcosa significa fare uso corretto del dono dell'immaginazione affidato all'essere umano bussate e vi sarà aperto rappresenta la giusta azione ovvero quella ispirata se non bussiamo spesso nessuno ci apre la porta la nostra intenzione unita al nostro immaginare di aprire una ipotetica porta deve portare a volte ad un'azione concreta dopo aver trovato una porta a cui sentiamo il forte desiderio di bussare le situazioni e le combinazioni di modelli di realtà della vita sono pressoché infinite sta a noi sceglierle con l'intenzione viverle nell'immaginazione e andargli incontro qualora il caso lo richieda di qui l'importanza di agire quando ci si senta ispirati la giusta ispirazione nasce dal contatto con la propria anima e non il contatto con la propria mente la mente agisce su linee di pensiero grezze e logiche dettate da situazioni che esistono al momento l'anima agisce su parametri che vanno molto al di sopra delle cognizioni e congetture mentali è come uscire da un labirinto essendoci dentro cercando l'uscita da una prospettiva orizzontale proprio come farebbe la mente con la sua prospettiva limitata oppure guardando dal di fuori dall'alto come fa l'anima in ogni situazione avendo un punto di vista molteplice non lineare ma multidimensionale di qui l'importanza di trovare un contatto con la propria anima e imparare ad ascoltarla non basta visualizzare e immaginare a volte occorre bussare e agire affinché il nostro sogno si manifesti se vuoi un fisico magro non ti servirà a nulla visualizzarti in questo modo sul divano con una birra in mano e un piatto di patatine può darsi che tu vinca un abbonamento in palestra ma in quel caso ci devi andare devi fare la tua parte se richiesta se vuoi crescere come persona non basta visualizzarti come persona di successo che parla a un pubblico e che aiuta le persone devi impiegare il tuo tempo in maniera fruttuosa imparando qualcosa che ti faccia crescere imparare una lingua leggere libri interessanti vedere film documentari fare corsi eccetera non basta stare attaccati alla tv e guardarsi centinaia di ore di sopopera e telegiornali se vuoi guadagnare più denaro fai in modo di sviluppare i tuoi talenti qualsiasi essi siano dettati dal tuo cuore o meglio dalla tua anima sviluppa giorno dopo giorno la maestria in quello che fai forse un giorno molte persone chiederanno il tuo aiuto e forse verrai pagato per questo facendo quello che ami non basta comprare gratta e vinci o aspettare che la fortuna ti baci facendoti vincere alla lotteria anche qui occorre il tuo impegno e la tua azione ispirata se vuoi scrivere un libro e senti di aver qualcosa da comunicare agli altri fallo molti mi chiedono come si fa a scrivere un libro e io rispondo semplicemente prendi una penna ed un foglio e scrivi tutto lì è la verità basta decidere di scrivere ed iniziare a farlo un libro è composto da fogli e da righe basta scrivere le prime righe su un argomento che si ama e che sta a cuore e le mani inizieranno a scorrere come per magia sulla tastiera come sto facendo io in questo momento sono realmente eccitato al pensiero di quanti libri avrò dato il via dalla creazione dei miei lettori che stanno leggendo queste righe just do it fallo e basta c'è una verità elementare la cui ignoranza uccide innumerevoli idee e splendidi piani nel momento in cui uno si impegna a fondo anche la provvidenza allora si muove infinite cose accadono per aiutarlo cose che altrimenti non sarebbero mai avvenute qualunque cosa tu possa pensare di fare o sognare di poter fare incominciala l'audacia ha in sé genio potere e magia incomincia adesso Goethe devi coltivare il tuo tempo e il tuo campo quantico mentale affinché le probabilità di vita ti portino a quello che desideri ma spesso ti devi alzare per prenderlo ciak quindi azione si inizia a girare consapevolmente il film della tua vita quel film le cui scene migliori hai già visualizzato ora tocca a te scendere in scena e imprimerlo nel film della realtà ma non prima che il regista il tuo cuore anima ti abbia dato il ciak ovvero il via all'azione ispirata dai valore al tuo tempo il tempo ti restituirà valore quando si parla di valore la prima cosa che viene in mente è spesso denaro in realtà il denaro è solo una possibile conseguenza del valore che noi attribuiamo a noi stessi alla nostra vita alla nostra visione e al valore che noi diamo agli altri con il nostro servizio una delle risorse più preziose nella nostra realtà è il tempo esiste un enorme valore e un enorme potenzialità nel tempo e su come lo si impiega nel tempo esiste la possibilità della crescita e trasformazione in individui di valore sebbene ogni essere umano abbia un suo effettivo valore sta a ciascuno impiegare il proprio tempo per raggiungere la massima potenzialità di se stessi attraverso la coltivazione dei propri unici talenti per poi metterli a disposizione degli altri ogni momento della nostra giornata possiede una sua potenzialità a livello di crescita e trasformazione quando si inizia a dare valore al proprio tempo impegnandosi nella crescita e nello sviluppo delle proprie potenzialità attraverso il dispiegamento della propria visione o progetto di vita il primo risultato è la propria crescita come persone da un nuovo punto di vista sulla scala della crescita e della consapevolezza si riuscirà non solo ad essere individui di valore in quello che si fa ma le scelte di vita nasceranno da un punto di vista più ampio maturo ed evoluto un essere sulla strada della propria evoluzione consapevole che desidera sviluppare i propri talenti e materializzare la propria visione fa buon uso del suo tempo lo studio di altri che ce l'hanno fatta nel nostro campo o nella vita la pratica costante in ciò su cui si vuole migliorare il seguire la propria passione profonda lasciando da parte ciò che non si ama da qui nasce la valorizzazione del fattore tempo che costituisce una risorsa preziosa che molti sprecano davanti alla televisione leggendo giornali di gossip e non investendo in alcun modo sulla propria crescita e sull'ascolto della propria visione interiore basti solo immaginare l'enorme potenziale che esiste nel tempo racchiuso in un'ora al giorno tolto da situazioni inutili e investito nella propria crescita personale anche una sola ora al giorno di studio o di pensiero consapevole sul da fare per i propri progetti sono come l'accumulo di denaro nel proprio conto in banca della crescita ed evoluzione immagina quell'ora moltiplicata per un anno cinque anni o dieci anni immagina i rendimenti crescenti che scaturiscono dalla nuova persona che emergerà da quei momenti di studio e riflessione fossero anche di immaginazione dei propri obiettivi raggiunti e delle qualità che si vogliono raggiungere immagina il tuo potenziale semplicemente immaginalo ora pregusta la possibilità racchiusa nel tempo per raggiungere il massimo di te stesso lo stile di vita che desideri e tutto ciò che renda la tua vita degna di essere vissuta inizia a dare valore al tuo tempo il tempo ti restituirà valore non esiste raccolto favorevole per chi non è disposto ad arricchire giorno dopo giorno il campo mentale della propria coscienza il genio della lampada è il tuo subconscio influenzalo con credenze potenzianti immagina due persone identiche sia nell'aspetto fisico che nella posizione finanziaria e nella situazione attuale di vita come potrebbero essere due gemelli nati nella stessa famiglia l'unica differenza che li distingue sono la loro differente visione di vita le loro credenze ovvero il campo di possibilità che ritengono come possibili o impossibili da mettere in pratica nella loro esistenza un gemello crede che la vita sia sforzo ingiustizia e mancanza di risorse dove solo i ricchi vanno avanti mentre tutti gli altri sono costretti a rimanere al palo in attesa che forse un giorno le cose si sistemino grazie a contributi e concessioni statali o peggio grazie alla questua dei gratta e vinci o di una ipotetica lotteria l'altro gemello al contrario pur essendo identico in tutto la pensa in maniera profondamente differente la sua visione di vita è molto più ampia ed in continua espansione lui crede che la vita possa essere costruita pezzo dopo pezzo sia dal punto di vista di benessere finanziario che di qualità della vita lui sa che uno dei beni più preziosi è il tempo ovvero la preziosa libertà di scelta su come dove e con chi utilizzarlo e spenderlo il tempo è davvero un bene prezioso specie nell'attuale società dove la maggior parte delle persone spende la maggior parte della vita a fare un lavoro che non ama solo per pagare un mutuo una bella macchina o per mantenere il proprio stile di vita purtroppo spesso a rate il secondo gemello ha credenze potenzianti che lo mettono sempre a ridosso di un nuovo livello di crescita personale e come conseguenza la vita gli rende poi il nuovo livello raggiunto con nuovi benefit e nuove opportunità di crescita in un circolo virtuoso dopo 5 o 10 anni quale sarà la differenza di qualità di vita tra i due gemelli? facile la risposta uno continuerà a leggere disperato il giornale fissando la propria attenzione sulle limitazioni sociali le ingiustizie di massa imprecando contro il politico corrotto di turno l'altro avrà costruito e capitalizzato i suoi talenti mettendoli a frutto a beneficio degli altri apportando benessere e qualità in qualche campo specifico ricavandone i conseguenti benefici sia economici che di realizzazione personale ma dov'è racchiuso il segreto la chiave segreta che ha generato la differenza tra i due? la chiave è la propria visione di vita ovvero tutto quello strato di credenze su ciò che sia possibile o meno nella propria esistenza la mente e il modello di vita che genera e produce è come un computer regolato da un software o un file punto sys di configurazione cambiate poche fondamentali righe di programmazione del software e del file di configurazione rimuovendo e risolvendo eventuali bug del sistema e il sistema stesso si muoverà in maniera più veloce efficiente e produttiva modificare in maniera potenziante le credenze è come modificare gli input mentali per modificare gli output ovvero i risultati concreti della vita ma dove risiedono le credenze? dove risiede il software il file critico di sistema e soprattutto come cambiarlo in nostro favore e beneficio? tutto risiede nel nostro subconscio quella parte nascosta del nostro sé così invisibile ma così potente perché regola tutti i nostri pensieri le nostre azioni e i nostri risultati come è stato giustamente detto la parte cosciente di cui siamo consapevoli è solo la sommità di un iceberg e tutto il resto ovvero la parte subcosciente rappresentata dal 90% della massa dell'iceberg è sommersa confrontato alla nostra mente e alle sue capacità ciò che veramente conta e che fa la differenza è ciò che è sotto l'acqua ovvero sotto il nostro livello di consapevolezza la buona notizia è che è possibile cambiare la parte subconscia sommersa il file critico di configurazione che governa la nostra vita in ogni attimo della nostra esistenza in poche semplici parole anche se siamo nati con il software mentale e le credenze del gemello numero uno potremo fare in modo con le modalità specifiche contenute in questo libro di farlo funzionare in maniera produttiva vincente e creativa come il gemello numero due basta sapere come fare e basta mettere tutto in pratica per osservare con aria all'inizio sballordita e divertita i risultati generati nella vita stessa come influenzare il subconscio ma come cambiare gli input racchiusi nel subcosciente credenze e visione globale di vita per generare output ovvero risultati visibili nella realtà manifesta la risposta è imprimendo attraverso l'autosuggestione gli input che vogliamo cambino la nostra matrix mentale e facendolo nel modo giusto altrimenti i risultati saranno opposti o inesistenti in parole più chiare per entrare attraverso la porta del conscio bypassandola ed entrare nel regno misterioso ed estremamente potente del subconscio occorre autoipnotizzarsi attraverso particolari tecniche semplici ma estremamente potenti che in realtà tutti utilizzano ma senza cognizione di causa è come se ci fosse stato dato in regalo un potente computer la nostra mente capace di fare cose magnifiche per noi stessi e per gli altri ma l'utilizzassimo solo per giocare ai videogiochi e non per creare cose ed esperienze grandiose e trasformative in maniera consapevole la differenza che passa tra l'utilizzo inconsapevole del subconscio e il suo utilizzo volontario è la stessa che segna il passaggio da creature a creatori consapevoli nel vasto oceano di possibilità nel mare della vita concetti tutti questi affascinanti da leggere ma che daranno i migliori frutti mettendoli in pratica con coscienza e facendoli diventare parte del nostro nuovo modo di vedere e di rapportarci alla vita siamo tutti creatori nella vita e lo siamo sempre stati ora la sfida e l'opportunità più grande è quella di divenire creatori consapevoli verso nuove e affascinanti opportunità che le infinite possibilità della vita possono portare ai nostri piedi tutto ciò sempre e comunque con il rispetto della forza colui colei che alla fonte dell'esistenza e della vita ci ha concesso questo enorme potere sempre con la responsabilità di colui che crea e nel pieno rispetto della volontà e del libero arbitrio altrui che rimane sempre sacro autoipnosi il sacro graal della creazione intenzionale qualsiasi tipo di tecnica si parli visualizzazione immaginazione pensare positivo affermazioni mantra eccetera eccetera tutte hanno in comune un fattore hanno come obiettivo quello di influenzare la matrice il nostro software file di sistema o come lo vogliamo chiamare che è appunto il nostro subconscio influenzarlo è cosa relativamente facile basta vedere un film che ci coinvolga emozionalmente e usciremo dalla sala cinematografica con un imprinting delle immagini e delle emozioni evocate basta vedere uno spot pubblicitario per farci venire la colina in bocca come nell'esperimento dei cani di Pavlov occorre capire ed applicare con consapevolezza certe tecniche per non essere creature inconsapevoli in mano ad esperti di marketing media o forze politico-religiose che non curano quasi mai gli interessi del singolo individuo occorre uscire dal gregge e diventare i pastori di se stessi vivere con consapevolezza direzione e soprattutto passione per le cose che si amano spesso ragione della nostra stessa esistenza la condizione fondamentale perché il messaggio autoipnotico attecchisca a livello profondo nel subcosciente è necessario che venga dato in uno stato di leggero dormiveglia e definito stato zeta di onde cerebrali quando la coscienza è a riposo e non giudica critica e blocca il messaggio che si vuole instillare affinché possa creare gli effetti desiderati dentro se stessi e poi nella manifestazione materiale affermare sono ricco ho tutto ciò che voglio in uno stato di veglia quando la coscienza è vigile risulta inefficace e controproducente specie se il proprio conto bancario è in rosso al contrario affermarlo in uno stato di semicoscienza come quando ci si sta per svegliare dal sonno o quando ci si sta per addormentare permette al messaggio stesso di riconfigurare i file di programmazione della nostra mente le cosiddette credenze per poi dare modo a se stessi di agire di conseguenza nel mondo materiale come se già godessimo di una vita prospera il solo fatto di sentirsi ricchi e benestanti finanziariamente permette di fare scelte ed azioni diverse da quelle prodotte da una mente che si sente povera cambiare se stessi a livello profondo permette di cambiare il proprio mondo cambiare l'input permette di cambiare l'output la vita è uno specchio fedele delle nostre credenze la buona notizia è che queste credenze e il corrispettivo che si riflette nella nostra vita materiale amicizie relazioni denaro stile di vita eccetera possono essere cambiate grazie al lavoro sul subconscio tramite frasi potenzianti immagini mentali e soprattutto tramite una forte intenzione a raggiungere il risultato il pensiero creativo focus the focus chiedi e permetti concentra e disperdi nel mondo della dualità dove vige l'armonico equilibrio degli opposti una fase si alterna l'altra il buio alla luce il caldo al freddo l'inspirazione all'espirazione la fase di contrazione a quella di espansione di ogni cosa il pensiero creativo non fa eccezione si attua in due fasi una attiva e una passiva gli antichi alchimisti l'avrebbero denominata il solve et coagula del pensiero il concentra e disperdi la prima fase è quella attiva della focalizzazione del pensiero sulla sensazione del desiderio realizzato quando virtualmente ed a livello immaginativo si vivono le sensazioni visive uditive cinestetiche ed eventualmente olfattive di ciò che si desidera sperimentare creare e vivere nella realtà questa richiede una concentrazione attiva del pensiero e potremmo chiamarla la fase yang maschile del processo creativo facendo riferimento al simbolo del Tao come appunto alternanza armonica di opposti la seconda fase del processo creativo è quella che permette al pensiero di diffondersi nell'universo e di portare indietro per risonanza o attrazione il corrispondente vibrazionale del pensiero stesso fino a che raggiunto un punto critico collassi poi nella realtà manifestando il pensiero originariamente focalizzato questa può essere definita per una migliore comprensione come la fase yang femminile della materializzazione del pensiero entrambi le fasi sono fondamentali e complementari nel processo di creazione intenzionale trascurare una delle due fasi porta ad ostacolare il processo di manifestazione del pensiero o nel migliore dei casi ad un ritardo nella manifestazione stessa per rendere chiaro il concetto è come se noi lanciassimo in aria un aeroplanino di carta e l'aeroplanino rappresenta il nostro pensiero che vogliamo materializzare la fase attiva del processo creativo è quella del lancio una volta data la spinta al processo quello che dobbiamo fare è dare fiducia all'aeroplanino il nostro pensiero focalizzato che una volta staccatosi dalla mano volerà e giungerà a destinazione manifestandosi nella realtà sarà del tutto controproducente continuare a dare spinte all'aeroplanino una volta staccatosi dalla mano questo ostacolerebbe il suo libero volo facendolo cadere anzitempo e nella direzione sbagliata da qui l'importanza al fine di favorire l'esatta manifestazione del pensiero e non provocare ritardi nel processo creativo di rispettare le due fasi attiva e passiva della fase di creazione intenzionale la prima fase è dunque quella del chiedere o invitare attraverso la fase di focalizzazione la seconda fase è quella del permettere attraverso la quale lasciamo che il pensiero si propaghi come le onde concentriche provocate da un sassolino gettato in uno stagno e che produca i risultati voluti perfino nella dinamica del processo creativo possiamo vedere riflessa la sottile armonia degli opposti che pervade il tutto la manifestazione della realtà in due fasi fase 1 focus immaginativo concentra l'energia mettere a fuoco la propria vita significa scegliere consapevolmente cosa si vuole essere fare ed avere in quel caleidoscopio che sono le esperienze di vita ognuno deve ascoltare profondamente se stesso e decidere cosa vuole e poi fare in modo che i profondi desideri si manifestino nella realtà il primo passo del processo creativo come già illustrato è quello attivo del focalizzare la propria attenzione su ciò che si vuole sperimentare è molto importante che ci si veda e ci si senta protagonisti di quella o di quelle esperienze e le si viva in prima persona e non da spettatore come in un film in cui si guarda lo schermo seduti nella platea la capacità di manifestare che risiede in ogni individuo crea fedelmente ciò che gli proiettiamo sullo schermo dell'immaginazione è necessario vivere dentro l'immagine toccare accarezzare ascoltare e vedere con gli occhi del protagonista della scena in caso contrario si materializzerà lo stesso la scena immaginata ma noi saremo fuori da essa come se fossimo dei passanti sulla strada questo processo può essere chiamato focus mentale o immaginativo in quanto si mettono a fuoco sullo schermo della propria coscienza le immagini le emozioni le sensazioni visive uditive cinestetiche ed eventualmente olfattive di ciò che si vuole vivere e sperimentare realmente tale processo di messa a fuoco della coscienza porterà con la ripetizione a rendere parte del proprio vissuto immaginativo il tipo di vita e di esperienza immaginata facendo vibrare entro se stessi il tipo di emozioni che si produrrebbero se si stesse effettivamente vivendo il tutto nella vita reale l'universo per risonanza o attrazione farà il resto rispecchiando nella realtà ciò che è stato ripetutamente vissuto virtualmente a livello immaginativo lo farà attivando il processo della sincronicità degli eventi che altro non è che una prima manifestazione del processo creativo con un po' di attenzione si presenteranno cose circostanze e persone che avranno a che fare con il vissuto immaginativo e in quel momento si avrà la chiara percezione di aver messo in moto qualcosa di magico nell'universo che altro non è che il proprio potere di manifestare in maniera consapevole per magia intendo qualcosa che va al di fuori dell'ordinario e che è in grado di portare stupore nella propria vita non ha nulla a che vedere con il classico concetto di magia la vera magia è quella di riuscire a manipolare consapevolmente la nostra realtà per il bene individuale e collettivo non servono ingredienti esterni l'essere umano ha già tutto ciò che occorre gli occorrono solo la scelta di mettere in moto il suo focus mentale su ciò che la propria anima vuole e di proiettare mediante il corretto uso dell'immaginazione i trailer del film della propria vita il processo di immaginazione deve comunque rispecchiare un desiderio profondo dell'individuo in modo da provocare emozioni che poi riverberino nell'universo affinché poi porti indietro la realizzazione della richiesta ovvero del proprio vissuto immaginativo una richiesta senza cuore ovvero senza dietro una forza emozionale ha ben poca capacità creativa ma questo è solo il primo passo del processo creativo affinché il cerchio della manifestazione si chiuda occorre che dopo la fase attiva del focus mentale si lasci andare con fiducia la propria richiesta nell'universo fase 2 defocus immaginativo disperdi l'energia abbandono da ogni bramosia di risultato fase di serena aspettativa questa seconda fase è una fase fondamentalmente passiva del processo di creazione richiede una sorta di abbandono alla corrente richiede nell'individuo che abbia portato a termine la creazione di modelli virtuali di realtà attraverso il focus mentale e immaginativo la convinzione che il processo sia in moto e che porterà i suoi frutti questo tipo di attesa deve essere serena e fiduciosa come ho detto in un capitolo precedente se lanciamo un aeroplano di carta in aria ci aspettiamo che per almeno un tratto voli quindi una volta lanciato non lo continueremo a spingere con la mano la stessa cosa deve essere per la fase di defocus immaginativo una volta attivato correttamente in maniera ripetuta sapremo che a livello quantistico avremo attivato una richiesta che è già alla ricerca di una risposta nella realtà il processo di risonanza e attrazione è quello che proverebbe un contadino dopo aver seminato lui non va a scavare continuamente sotto la terra dove ha piantato il seme per vedere se sta iniziando a germogliare ma aspetta fiducioso che il seme esca da un giorno all'altro dalla terra e che poi un giorno fiorisca dando i suoi frutti chiaramente nel caso della creazione intenzionale occorrerà fare la propria parte se richiesta dalle circostanze se il nostro desiderio era quello di ricevere qualcosa occorrerà in alcuni casi allungare la mano per prenderlo qualora si presenti un'occasione portataci dalla sincronicità anche se sono contrario alle lotterie che rappresentano la disfatta del proprio potere creativo di masse di individui che non hanno alcun tipo di iniziativa e di potere sulla propria vita ma solo con il fine di rendere chiaro il concetto di qui sopra se voglio vincere alla lotteria dovrò almeno comprare un biglietto e non aspettare che mi venga regalato in questo senso si deve anche fare la propria parte se richiesta ma sempre in modo sereno affida dunque la tua fortuna ai tuoi talenti facendoli germogliare e poi mettili al servizio del più vasto numero di persone questo avrà più valore di una vincita ad una lotteria non solo potrà renderti ricco ma farà di te una persona migliore questo secondo processo creativo rimane comunque una fase fondamentalmente passiva in cui si richiede la serena aspettativa che prima o poi una via verso il risultato voluto da qualche parte apparirà grazie alle circostanze sincroniche attivate dalla fase attiva del focus mentale immaginativo a volte la manifestazione avviene nel momento in cui si smette di nuotare contro la corrente e si smette di bussare insistentemente la porta del desiderio un classico esempio è quando una coppia è ostinata ad avere figli da tempo e non ci riesce spesso è proprio il desiderio eccessivamente carico di importanza verso il risultato che non permette che il desiderio si libri in aria portando poi per risonanza o attrazione il suo risultato il provare testardamente è l'opposto del permettere arriva un punto in cui la coppia si arrende adottando un bambino e poco dopo la donna rimane magicamente incinta dopo tanti tentativi andati male in questo caso proprio la resa ha permesso al proprio desiderio di manifestarsi altro caso esemplare è quando si cerca disperatamente un partner spesso nessuno appare all'orizzonte aumentando il senso di frustrazione e di solitudine quando si inizia a stare bene con se stessi e la propria richiesta perde la propria drammaticità trasformandosi da un urlo disperato ad una richiesta gentile ammicchevole e con il sorriso sulle labbra ecco apparire alla soglia della propria vita la persona che si stava aspettando a volte addirittura se ne presentano due chiedi e ti sarà dato serenamente e senza sforzo tutto ciò che occorre è dunque sapere cosa si vuole profondamente viverlo con il focus immaginativo e fare in modo che giunga a noi permettendolo con la risonanza e la trazione attraverso l'abbandono da ogni bramosia di risultato a volte la manifestazione avviene nel momento in cui si smette di nuotare contro la corrente e si smette di bussare insistentemente alla porta del desiderio pensa e agisci oggi su cosa puoi migliorare adesso il tuo futuro si basa sul tuo presente su tutti gli ora che stai vivendo adesso e si susseguono sulla via del tempo il tuo tempo le basi del domani si fondano sulle fondamenta delle azioni che compirai oggi in quello straordinario spazio di tempo ricco di potenzialità che ti regala il momento presente la vita è come un romanzo che tu riscrivi in ogni momento con ogni respiro ed ogni sospiro con ogni tuo pensiero ed ogni tua azione sta a te fare tesoro di questo momento attuale per creare le basi del tuo glorioso futuro metti a frutto ogni pensiero costruttivo traducendoli in quello che puoi fare oggi in questo momento per avvicinarti al tuo sogno piccolo o grande che sia ma che comunque sia il tuo sogno e non quello di qualcun altro mi guardo intorno e vedo persone che parlano dei loro sogni ma non spostano una sola virgola della loro vita in quella direzione vanno avanti giorno dopo giorno nella speranza che qualcosa cambi la fortuna esiste ma aiuta gli audaci aiuta l'audacia di chi fa un passo avanti uno dopo l'altro prendendosi il lusso di sbagliare anche ma comunque di procedere il successo premia il focus e la costanza di colui che ha in mente la sua opera e giorno dopo giorno la porta alla luce con piccoli sapienti colpi di scalpello ho scritto ho scritto sua opera in quanto intere masse di individui seguono progetti di altri nei quali non c'è il loro cuore la loro passione raggiungere un grande obiettivo di cui non ci si sente partecipi è come aver raggiunto il nulla nell'ottica di una vita spesa a portare alla luce noi stessi e le nostre potenzialità nascoste i progetti comuni sono un successo per tutti quando tutti i partecipanti lavorano con una visione comune e i loro cuori palpitano verso un unico obiettivo al mondo c'è posto per ogni progetto ma ognuno al suo che deve cercare come se fosse la vena d'oro della sua realizzazione della sua soddisfazione e del suo trionfo nasciamo tutti con dei talenti sta ad ognuno scoprire i suoi iniziando ad ascoltare se stessi e a seguire con fiducia la propria strada del successo occorre seminare giorno dopo giorno nel nostro campo mentale i pensieri necessari a modellare il proprio progetto ma oltre a ciò occorre mettere in pratica l'azione ispirata ovvero quell'azione che in quel preciso istante avvicinerà alla manifestazione finale del sogno occorre seminare i propri talenti giorno dopo giorno affinché le stagioni della vita non si susseguano in vano arrivando al tramonto con ancora un pugno di semi in tasca che si amorevolmente e sapientemente piantati avrebbero fatto un mondo di differenza pensa ora ed agisci adesso con l'azione ispirata il tuo domani dipende dal tuo formidabile prezioso e glorioso ora benedici il tuo sogno e sii felice che esiste come pura potenzialità ti capiterà prima o poi di incontrare nella tua realtà un riflesso del tuo sogno un'immagine di ciò che hai nel cuore e che desideri realizzato nella tua vita se hai in mente un tipo di partner lo vedrai di sfuggita per strada con il suo sguardo altrove o che per un attimo fuggente ti guarda negli occhi benedicilo e benedici il fatto che esista in questo mondo rappresenta comunque una realtà potenziale che potrà eventualmente entrare nella tua vita se anche fosse abbracciato o abbracciata ad un'altra persona benedicili tutti e due senza provare alcuna invidia in questo modo a differenza dell'invidia o della frustrazione che tu non sia al suo posto ti permetterà di sapere che c'è qualcuno che gode al momento del tuo stesso sogno e che prima o poi la vita potrà recapitarlo anche a te credi nel tuo sogno almeno come potenzialità possibile anche il solo credere di essere degno di quella cosa di quella situazione o di quel tipo di persona farai in modo di renderlo possibile almeno come potenzialità quando si presenterà l'occasione non avrai paura di coglierla ma la sentirai tua e questo farà un mondo di differenza con coloro che si ripetono continuamente il mantra negativo di non me lo posso permettere o il non ce la farò mai credici e sentiti degno di tutto ciò che ti fa felice anche solo immaginandolo dai credito e fiducia al tuo sistema di guida interiore al tuo sesto senso ai tuoi sentimenti la realtà che hai davanti ai tuoi occhi è solo un riflesso del tuo io passato è la somma di tutte le tue credenze aspirazioni pensieri e azioni del tuo passato il tuo domani e quello che ti capiterà di buono sarà il frutto dei pensieri del tuo momento presente delle emozioni che associ alle tue visioni e alle scene che immagini benedici dunque ogni tuo sogno quando lo vedi concretamente davanti ai tuoi occhi anche se ancora non fa parte della tua realtà sappi solo che è possibile questo indirizzerà le linee di manifestazione potenziale verso la tua esperienza quando come non è il tuo compito sapere il come e il quando immaginalo già presente nella tua vita e prima o poi apparirà e non sarà magia ma il risultato della tua visione vissuta e gustata in maniera gioiosa nel momento presente anche se con gli occhi e con i sentimenti nell'immaginazione i tuoi sentimenti dominanti vibreranno nell'etere riportandoti per attrazione e risonanza quello che con il tuo cuore cerchi rispetta i cicli della vita la vita è formata da cicli su base individuale e universale flussi e riflussi attività e passività si può scorgere questa armonia silenziosa su piccola e vasta scala il giorno e la notte l'inspirazione e l'espirazione i battiti del cuore l'alternarsi delle stagioni e degli alti e bassi della vita è proprio questa ciclicità della vita che garantisce l'armonico alternarsi degli opposti a livello individuale per mantenere la propria armonia e sintonia con la vita occorre rispettare il più possibile i propri cicli vitali del sonno veglia digiuno alimentazione azione e astinenza sessuale euforia e pausa rispettare i propri cicli vitali permette all'individuo di imparare ad ascoltarsi e a rispettarsi sebbene nella vita moderna sia a volte difficile ognuno deve reimparare a ritrovare il contatto con la propria essenza vitale ed i propri ritmi vitali fluire con i propri ritmi vitali permette di fluire con il mondo e di sintonizzarsi con la parte più alta di sé ogni opera creativa dell'anima ogni decisione saggia parte da una situazione di serenità ed armonia interiori dove l'individuo gioisce e si sente parte di un tutto che lo nutre e lo protegge rispettare rispettare i propri cicli vitali implica un ascolto di se stessi ed il rispetto di quella parte nascosta che ha un proprio ritmo ed una propria musica alterare quest'armonia significa entrare in conflitto con se stessi e alterare la connessione con la parte più alta di sé quella parte che tutto vede e tutto sa per il proprio bene e quello del tutto vivere meccanicamente sulla base di orari fissi pasti regolati sveglie e impegni non desiderati fa parte della comune routine dell'uomo moderno il quale è trascinato nel vortice della vita come se inseguisse qualcosa che è sempre un po' più in là di dove è lui rispettare i propri ritmi di vita implica un rispetto per se stessi e un passo verso il seguire se stessi e la propria visione si può iniziare a fare ciò anche nel bel mezzo della vita attuale basta lasciare andare il superfluo e abbracciare e valorizzare ciò che veramente si desidera seguire nella vita magicamente facendo ciò e iniziando a seguire se stessi emergerà a poco a poco la vera parte di sé quella che spesso è sommersa da impegni falsi doveri e falsi obiettivi e necessità un arco sempre teso non tira più con la forza originaria perfino un arco ha una sua saggezza scopri la tua ed assecondala consideralo come un regalo a te stesso e alla tua capacità di essere nel mondo quando inizierai a rispettare te stesso vibrerai nel tuo mondo in maniera più armonica perché più consona la tua natura il mondo rifletterà questa tua armonia interiore dandoti spesso ciò che cercavi inutilmente e meccanicamente scoprirai la bellezza di cose che da sempre sono state davanti a te ma erano nascoste da cose futili e spesso superflue questa è la filosofia dell'uomo e donna naturali semplicemente fallo adesso la strada e le svolte si mostrano a chi percorre con fiducia il suo percorso qualunque progetto tu abbia in mente inizialo oggi anche semplicemente facendo una bozza di piano su carta o iniziando a fare alcune telefonate o inviando email a persone che potrebbero aiutarti nel tuo progetto anche i progetti più geniali iniziano da una sola iniziativa da un semplice passo nessuno può farlo per te sei tu che devi dare fiducia a quello che senti dentro di te e che dice che c'è una strada per quello che hai in mente anzi nel cuore il detto aiutati che Dio ti aiuta sta a significare che sei tu che devi iniziare a fare la tua parte sulla strada poi potrai sicuramente trovare svolte inaspettate che ti aiuteranno in quello che stai facendo ma in ogni caso sta a te iniziare il progetto e mettere avanti i primi passi verso la sua realizzazione il pericolo che fallisca esiste sempre ma in quel caso farai comunque tesoro di quell'esperienza e ti servirà per coronare di successo qualche altro tuo progetto i successi si costruiscono spesso sulle fondamenta dei propri errori passati è il coraggio che premia gli audaci ovvero coloro che se ne infischiano di fallire eventualmente ma che in ogni caso credono in quello che stanno facendo sia per il proprio bene che per il bene comune la paura paralizza l'audacia e il coraggio premiano in qualunque caso prima o poi molte persone vivono nella vita in posizione difensiva come se vivessero arroccati nella loro postazione di vita senza rischiarsi mai di investire sia in denaro che in azioni che li portino al di fuori dei loro ristretti confini di vita una vita di scoperta crescita evoluzione e gioia richiede che l'individuo decida di mettersi in gioco con coraggio e fiducia nella vita la vita gli chiede di chiedere altrimenti non gli potrà essere dato occorre trovare il coraggio di entrare in campo e di giocare la propria partita le proprie carte anche se al momento non le si ha la fortuna aiuta l'audacia che parte da un forte desiderio che nasce da una esigenza profonda dell'anima non si tratta di essere impulsivi ma decisi in quello in cui si crede profondamente sempre e comunque nell'ottica di rivedere e aggiornare i propri piani ed obiettivi in base allo sviluppo dei vari scenari in ogni caso mai tradendo la propria verità interiore le grandi conquiste in tutti i campi nascono da coloro che con il bagaglio dei loro sogni e delle loro capacità anche potenziali decidono di metterle in gioco avanzando e facendo quello che ritengono più opportuno in vista non solo del loro obiettivo ma anche della loro gioia profonda quando si fa ciò che si ama lo si fa con la gioia nel cuore si è innamorati di esso come in questo momento in cui gioisco dell'opportunità che ho ora scrivendo queste parole di trasmetterti la gioia di iniziare quel progetto che hai chiuso nel cuore forse da molto tempo o di proseguire ciò che hai già iniziato con entusiasmo la vita ed il successo ti stanno già aspettando su qualche linea del tempo ma gioisci fin da ora con quello che ti porta entusiasmo e realizzazione lascia perdere ciò che senti profondamente come inutile e dai fiducia a quella parte profonda di te che ti parla in termini di entusiasmo e gioia abbi il coraggio di seguire te stesso pratica pratica e ancora pratica la mappa non è il territorio ciò che farà avverare i tuoi desideri non sarà il fatto che avrai letto cento volte questo libro e che lo conoscerai a memoria non sarà pure il fatto che avrai letto altri duecento libri sull'argomento forza del pensiero dell'immaginazione e sulla legge dell'attrazione ciò che farà di te un creatore consapevole e potente sarà che avrai messo in pratica le lezioni che avrai appreso sia con la lettura che con la pratica stessa ogni volta che indirizzerai consapevolmente la tua intenzione e che eserciterai la tua immaginazione verso scopi specifici vedrai attorno a te il mondo modificarsi secondo le tue aspettative questo ti darà sempre più fiducia ed abilità nelle tue capacità quando sarai completamente sazio della lettura diventerai affamato di risultati creativi vorrai assaporare risultati concreti sia che siano manifestazioni di sincronicità che risultati visibili e tangibili al di là di tutto la sensazione più grande e magnifica l'avrai quando prenderai sempre più coscienza di essere tu stesso il capitano della tua nave sulla rotta della tua vita arriverai al punto in cui ispirerai gli altri a seguire la strada della propria maestria e non c'è maestria più grande del creare e far accadere circostanze fatti e avvenimenti in maniera consapevole sia per il proprio benessere che per quello altrui la nascita di un nuovo essere umano è alle porte un essere umano che sa di essere una estensione del potente ed infinito potere creativo che permea ogni cosa nell'universo e fratello di ogni altro essere vivente che il potere creativo sia chiamato Dio potere cosmico o come si voglia non ha importanza ciò che è importante è rendere migliore la propria vita evolvere se stessi sulla strada del dispiegamento psicofisico spirituale e abbracciare gli altri riconoscendoli come un tutt'uno parte di un se stessi più grande e infinito tutto ciò è possibile attraverso piccoli sforzi diretti verso l'obiettivo di diventare maestri creatori e di godere delle bellezze della creazione piccoli successi nella creazione consapevole allenano i muscoli della coscienza verso una vita piena e ricca la pratica è la base di ogni successo e di ogni maestria che si voglia raggiungere verso la nascita dell'essere umano multidimensionale mettendo in pratica la potente forza dell'intenzione consapevole e utilizzando in maniera opportuna e non casuale la tua immaginazione diventerai parte di un nuovo livello evolutivo dell'essere umano sarai parte dell'essere umano multidimensionale che opera non solo nell'ambito delle tre dimensioni della realtà materiale altezza larghezza profondità ma utilizzerai anche una dimensione in più quella del tempo riconoscendo che gli eventi futuri sono da te creati nel momento presente mediante il potere di una forte intenzione e mediante il potere del focus immaginazione ti renderai conto sempre di più di come il tempo sia un'illusione della terza dimensione accettando di essere il responsabile della tua vita e degli eventi che ti accadono rendendoti sempre più conto del nesso di casualità che esiste tra quello che intendi e immagini oltre che alle credenze che regolano a livello subconscio la tua vita acquisterai una consapevolezza superiore nel gradino evolutivo acquisendo l'importante capacità di creare in maniera sempre più mirata e precisa un percorso che come tutte le nuove capacità richiede pratica ma che con il tempo diventerà sempre più il bagaglio delle tue capacità il fenomeno il fenomeno della centesima scimmia la scimmia giapponese macaca fuscata è stata osservata allo stato selvaggio per un periodo di oltre 30 anni nel 1952 sull'isola di Koshima alcuni scienziati davano da mangiare alle scimmie delle patate dolci sepolte nella sabbia alle scimmie piaceva il gusto delle patate dolci ma trovavano la sabbia assai sgradevole un giorno una femmina di 18 mesi chiamata Imo scoprì che era in grado di risolvere il problema lavando le patate in un ruscello vicino in seguito insegnò questo trucco anche a sua madre anche i suoi compagni di gioco impararono a lavare le patate e lo insegnarono anche alle loro madri questa innovazione culturale fu gradualmente accolta dalle varie scimmie mentre gli scienziati le tenevano sotto osservazione tra il 1952 e il 1958 tutte le scimmie giovani impararono a lavare le patate dolci per renderle più appetitose solamente gli adulti che imitarono i loro figli appresero questo miglioramento sociale gli altri continuarono a mangiare le patate sporche di sabbia poi accadde qualcosa di veramente notevole possiamo dire che nell'autunno del 1958 vi era un certo numero di scimmie sull'isola di Koshima che aveva imparato a lavare le patate non si conosce il numero esatto supponiamo che un dato giorno quando il sole sorse all'orizzonte vi fossero 99 scimmie che avevano imparato a lavare le loro patate supponiamo inoltre che proprio quella mattina la centesima scimmia imparò a lavare patate a quel punto accadde una cosa molto interessante alla sera di quel giorno praticamente tutte le scimmie sull'isola avevano preso l'abitudine di lavare le patate dolci prima di mangiarle l'energia aggiunta di questa centesima scimmia aprì in qualche modo un varco ideologico la cosa più sorprendente osservata da questi scienziati fu il fatto che l'abitudine di lavare le patate dolci attraversò in seguito il mare infatti colonie intere di scimmie sulle altre isole ed anche gruppi di scimmie a Takasakiama cominciarono a lavare le loro patate dolci sembra perciò che quando viene superato un certo numero critico di elementi si raggiunge una nuova consapevolezza la medesima viene passata da una mente all'altra sebbene il numero critico possa variare il fenomeno delle cento scimmie indica che quando vi sono poche persone che conoscono qualcosa di nuovo questo nuovo concetto rimane di loro esclusiva proprietà ma se a loro si aggiunge anche una persona in più e si raggiunge il numero critico si crea un'idea così potente da poter entrare nella consapevolezza di quasi tutti i membri di quel gruppo il tuo contributo per il mondo la centesima scimmia a cambiare il mondo potresti essere tu la pratica e l'acquisizione della capacità di gestire la tua realtà in maniera consapevole attraverso poteri sempre esistiti ma ignorati nell'essere umano intenzione e immaginazione avranno una ripercussione positiva sull'evoluzione di tutto il pianeta come riporta l'esperimento della centesima scimmia e la stessa fisica quantistica entanglement quantistico viviamo in un mondo interconnesso a livello energetico quello che tu pensi ora in qualunque parte del mondo provoca un fenomeno di influenza e interazione a persone che vivono anche a migliaia di chilometri di distanza lo stesso vale nella creazione di eventi locali e su scala globale una volta che tu farai la parte della centesima scimmia ovvero diventerà il centesimo essere umano multidimensionale che ha imparato a gestire in maniera consapevole la sua realtà questa stessa capacità sarà verosimilmente acquisita in maniera quasi automatica da altri esseri umani nella scala evolutiva da quel momento in poi raggiunta una massa critica di nuovi esseri umani almeno secondo il fenomeno dell'entanglement quantistico di cui l'esperimento della centesima scimmia è un esempio sorgerà una nuova razza di esseri umani ognuno ha quindi non solo una responsabilità verso se stesso ma anche una responsabilità verso gli altri almeno fino a che gli altri non verranno finalmente riconosciuti come parte di se stessi e di un unico e infinito uno che è sempre stato e sempre sarà in ogni luogo e in ogni tempo ricordati di ringraziare la vita il solo fatto che tu sia emerso in questa esistenza ti dà infinite possibilità di crescita gioia e piacere ogni giorno che ti alzi è una nuova opportunità di scrivere una pagina nuova della tua vita dove puoi vivere le emozioni che più ti rendono felice in qualsiasi condizione tu ti trovi in questo momento c'è una parte nascosta di te stesso che può regalarti gioia e soddisfazione il tuo potere immaginativo e la possibilità di indirizzare il tuo focus lo stesso focus immaginativo inizialmente pura potenzialità pone le basi di ciò che potrai sperimentare nel reale quale possibilità più grande di essere liberi di vivere e sperimentare ciò che si desidera prima a livello virtuale immaginativo e poi reale ricordati dunque di ringraziare la vita che è in te e ti circonda perché anche nel solo ringraziare mostrerai alla vita stessa il tuo stupore per questa grande opportunità che è la tua presenza in questo mondo a te quindi le responsabilità e l'opportunità di disegnare il tuo progetto di vita e le esperienze connesse apri te stesso alla realizzazione del tuo più alto potenziale e godi delle bellezze del mondo espandi la tua visione ed espandi i limiti della tua vita prendi coscienza che sei tu che poni i limiti e crei le tue possibilità accendi l'alba della tua consapevolezza prendendo in mano il destino della tua vita pratica giochi di coscienza per manifestare la tua visione tieni un diario dei desideri forse non riesci neppure ad immaginare l'impatto positivo che possa avere un diario di viaggio dove tu possa scrivere le tue impressioni nel tuo percorso di crescita come creatore potente e consapevole se annoterai le piccole sfumature della tua vita come coincidenze strane piccoli o grandi colpi di fortuna inizierai a vedere il nesso che esiste tra quello che pensi quello che provi e quello che si manifesta nella tua vita tutto ciò ti dà potere in quanto inizi a vedere che dietro alla trama della vita esiste un magico creatore e ti rendi conto che quello sei proprio tu non esiste potere più grande di diventare consapevoli di avere il pieno potere sulla propria vita ed avere un diario su cui annotare tutto ciò che può aiutarti a svelare questa trama segreta rendendoti sempre più consapevole e potente sulla via della tua evoluzione e crescita rileggere il nesso delle casualità che appaiono nella tua vita ti fa sempre di più comprendere che l'artifice sei tu stesso con tutto quel mondo di pensieri speranze ed emozioni che rappresentano il tuo mondo interiore a mano a mano che lo scriverai e lo rileggerai il tuo diario delle visioni diventerà sempre di più un punto di riferimento del fatto che sei tu il regista della tua vita inizierai a capire ciò che una mente distratta e anestetizzata dai media non riuscirebbe mai a cogliere il diario ti mette in contatto con la parte profonda di te stesso che vuole ed aspira al massimo bene per la tua vita il diario ti parla di ciò che la tua mente razionale non conosce e non può capire il linguaggio simbolico dei segni dei codici nascosti e dei messaggi della natura il tuo diario delle visioni può esserti utile nel trovare la tua strada nelle vie del mondo quella strada che è unica per te e che renderà la tua vita più bella gioiosa e straordinaria tirandoti fuori da un mondo uniformato da convenzioni sociali e abitudini consolidate ma che non si adattano al tuo mondo inizia il tuo diario con una profonda dichiarazione di intenti io voglio diventare un potente creatore intenzionale voglio questo voglio quello scrivi con l'innocenza e la purezza di intenti di un bambino che arriva nel mondo come se fosse una festa non un campo di lavori forzati la tua dichiarazione di intenti non deve essere mai una implorazione disperata all'universo in quanto ogni implorazione rappresenta in sé una mancanza di potere e l'universo stesso ti risponde togliendoti il potere stesso che era chiuso in te chiedi all'universo ciò a cui profondamente aspiri come se la tua richiesta fosse un bacio soffiato nell'infinito sii sicuro che ciò che chiedi risponda ad una profonda esigenza della tua anima altrimenti quando riceverai ciò che hai chiesto ti accorgerai che in fondo non ti serviva a nulla non chiedere rubinetti d'oro quando ciò che ti occorre è acqua fresca che puoi trovare in una sorgente di roccia non avere paura di scrivere sul tuo diario delle visioni qualcosa di grande perché la forza dell'universo che ha creato mondi e civiltà non fa differenza tra ciò che è grande e ciò che è piccolo sii solo sicuro di cercare il tuo bene massimo senza mai violare la volontà di un altro essere aspirando ed augurando il suo stesso bene più alto sappi che l'universo ha modalità e ragioni che la ragione umana non conosce sii pronto a vedere apparire il tuo sogno nei posti e nelle modalità che meno ti aspetti non forzare mai la manifestazione essa ha i suoi tempi e sappi che più la forzi e più te ne allontani scrivi sul tuo diario solo e soltanto quando senti l'istinto di farlo e non come un compito da espletare ogni forzatura soffoca l'ispirazione della tua anima ed è proprio lei che deve scrivere sul tuo diario come ogni grande opera deve essere frutto della profonda ispirazione dell'anima di chi la produce nello stesso modo tu devi scrivere il tuo diario come fosse la tua opera l'opera della tua vita tenere un diario dell'anima ti avvicina a te stesso rendendoti sempre più consapevole del miracolo della tua vita lascia che il tuo cuore parli e osserva accadere miracoli nella tua vita scrivi la tua visione affermare la propria visione è un passo fondamentale sulla via del suo dispiegamento scrivere la propria visione significa affermare con chiarezza ciò che veramente si desidera vivere nella propria realtà significa affermare la propria intenzione e imprimere una precisa richiesta nel mondo dei probabili potenziali affermare la propria visione significa scrivere lo spartito della propria vita ogni visione e obiettivo di vita parte dalla consapevolezza individuale nel momento in cui viene consapevolmente e intenzionalmente affermata e può quindi variare in base all'evoluzione della consapevolezza individuale nei vari stadi della vita ciò che era importante a 15 anni non lo è nella stessa misura a 30 ciò che è importante a 30 anni potrebbe non esserlo nella stessa misura a 70 la cosa importante è che la visione sia il frutto del distillato della propria anima dei propri desideri su come dare valore al proprio tempo e dalla propria vita anche nell'ottica di un servizio e beneficio agli esseri e al mondo circostante scrivere la propria visione significa iniziare a seguire se stessi fare il primo passo nel raggiungimento della realizzazione del proprio massimo potenziale e rendere la vita magica perché vissuta in armonia con la propria fonte universale quello che segue è un esempio di visione ma per essere efficace tu dovrai scrivere la tua non puoi avere successo suonando uno spartito che non è scritto dalla tua anima cerca la tua musica e inizia a suonarla cerca la tua unicità ed i contributi che puoi dare a te stesso a quelli che ti sono vicini e al mondo intero siamo tutti connessi da un internet biologico quello che fai a te stesso lo fai anche a tutti gli altri dichiara il tuo intento questo è un esempio di dichiarazione di intenti riguardo la propria visione io scrivi il tuo nome voglio vivere una vita ricca e felice piena di bellezza scoperta e crescita voglio raggiungere il mio massimo potenziale in questa mia esistenza e riuscire ad aiutare il massimo numero di persone a fare altrettanto voglio farlo con il mio esempio personale mostrando agli altri che seguendo se stessi si raggiunge una vita piena di gioia amore e soddisfazione voglio avere il benessere economico per assaporare e gustare tutto ciò che di buono e bello ha il mondo da offrire amo la sicurezza finanziaria e so che donando agli altri il meglio di se stessi si riceve dal mondo il meglio che ha da offrire voglio assaporare il mondo con accanto a me un una partner speciale che mi supporti in quello che faccio e che rappresenti per me il massimo che cerco nell'elemento umano femminile o maschile voglio essere la massima versione di me stesso voglio vivere a lungo e in salute conservando in me la fiamma della giovinezza voglio godere del costante contatto con la fonte della vita affinché mi ispiri e mi protegga costantemente voglio ispirare gli altri a fare altrettanto voglio vivere al massimo potenziale per il mio bene e quello dell'universo tutto così sia focalizzare la sensazione del desiderio come se già facesse parte della tua vita dopo la dichiarazione di intenti si scelgano le singole scene che si desidera vivere vivendole e immaginandole in prima persona mentre le si sta sperimentando e mai in terza persona dall'esterno la realtà infatti si cristallizza e si materializza dal punto di vista immaginato se immaginiamo una casa dal di fuori la vedremo sempre come spettatori e mai come proprietari a meno che non la si immagini con la sensazione di esserne i proprietari invia all'universo il tuo annuncio virtuale ti sarà forse capitato di mettere un annuncio su un giornale di compravendita tu inserisci l'annuncio e dopo un po' di tempo ricevi le telefonate di persone potenzialmente interessate all'oggetto che offri in vendita capita a volte di non ricevere chiamate per una o più settimane per poi riceverne d'improvviso e un bel giorno due tre o addirittura di più la stessa cosa accade nella vita le circostanze sono in continuo movimento dinamico e a volte persone interessate a ciò che offriamo o cerchiamo si trovano distratte o indaffarate in altre situazioni ecco cambiando tali circostanze e combinazioni di vita a volte ci vengono a cercare una o più persone o ci capitano eventi che avevamo domandato con la nostra richiesta ovvero con il nostro annuncio virtuale è utile scrivere su un foglio di carta o su un file una richiesta come se fosse un annuncio nel giornale di chiedo e offro dell'universo questo è un modo di chiedere che molte persone accettano come normale proprio perché esiste in maniera concreta nella nostra realtà per alcuni può risultare difficile chiedere all'universo ma orientare la propria intenzione di avere essere o fare qualcosa come se fosse un normale annuncio su un giornale supera le resistenze psicologiche interne risultando la richiesta più efficace una volta inserito il tuo annuncio che può trovare benissimo posto nel tuo diario delle visioni se ne tieni uno e ti invito a farlo dovrà essere affidato al sistema di consegna cosmico senza prestargli troppa attenzione non occorre quindi leggerlo e rileggerlo perché è come se così facendo stessimo forzando la situazione e come già ripetuto in più punti lo sforzo allontana la creazione mentre il lasciare andare soddisfa il requisito di aver fiducia nel processo ogni richiesta riverbera nell'universo in un turbinio di sogni e speranze affidare all'invisibile il proprio annuncio virtuale permette di mettere in lista d'attesa la propria richiesta aspettando che prima o poi si crei la combinazione di eventi che soddisfi ciò che è stato chiesto requisito fondamentale per ricevere è quello di affidarsi al sistema di pubblicità e di consegna senza dubitare mai ci verrebbe in mente di chiamare il giornale che pubblica il nostro annuncio dicendo se tutto sia andato a buon fine se funziona un sistema analogo di annunci materiale a maggior ragione deve funzionare un sistema di richiesta basato su principi e leggi metafisiche come la legge dell'attrazione o di risonanza a cui risponde fedelmente ogni richiesta fatta con la fiducia e l'innocenza di un bambino che mai dubita su quanto riceverà crea e vivi la tua realtà virtuale con il focus immaginativo la possibilità affidata agli esseri umani di immaginare infiniti potenziali permette non solo di creare le condizioni affinché quelle probabilità di futuro accadono ma permette anche di vedersi e di sentirsi in quelle future situazioni aumentando quindi le possibilità che si manifestino in questo modo è possibile creare le condizioni vibrazionali affinché la legge dell'attrazione ci trasporti su quelle linee di realtà desiderate e di assaggiare un'anteprima della nostra vita comincia da ora a immaginare il tuo futuro il tuo miglior futuro ciò che di meglio riesci ad immaginare per te creare il film della tua vita non è solo un gioco d'illusione che puoi fare ogni volta che lo desideri ma un vero e proprio momento di creazione intenzionale noi creiamo solo ciò che riusciamo ad immaginare o a cui prestiamo costantemente attenzione fai quindi modo di scegliere bene le tue scene e le relative emozioni che vuoi trasportare nel tuo probabile futuro vivilo sempre in prima persona come se fossi tu stesso il protagonista e non come uno spettatore che guarda un film seduto al cinema se immagini di ballare con la tua donna o il tuo uomo fallo mentre la guardi o lo guardi negli occhi se immagini la tua nuova bella casa vivici dentro immaginati davanti al calore del suo caminetto o affacciati a guardare la stupenda vista che si gode dalle sue grandi finestre la vita è un gioco di visioni ed emozioni sta a noi viverle in ogni fibra del nostro essere e vederle apparire piano piano nella nostra realtà come se fosse una magia straordinaria fai in modo di ampliare la tua visione di vita su ciò che ritieni possibile o meno per te stesso e per la tua vita se non credi che qualcosa di bello magico e straordinario possa capitarti non sarai pronto a coglierlo nel momento in cui te lo vedrai passare davanti la paura il dubbio e il è troppo per me ti assaliranno quando invece sarebbe bastato allungare la mano come se fosse la mano innocente di un bambino coglierai solo ciò in cui avrai creduto come possibile e che sarai pronto a cogliere ognuno di noi crea i suoi limiti e le sue potenzialità sta ad ognuno immaginare credere e lasciarle accadere senza farsi governare dal desiderio stesso credi nelle infinite potenzialità della vita ogni porta che si chiude può celarne un'altra ancora più maestosa e adatta a te alza il tuo sguardo verso le possibilità della vita e credici ricorda che i tempi della manifestazione spesso non seguono la tua agenda ma un loro tempo che a volte risulta in perfetta tempistica nella tua vita finché ci crederai veramente ci sarà sempre un'opportunità ad aspettarti non credere solo per fiducia alle mie parole ma inizia a vivere la tua vita come magia iniziando a seguire i sogni della tua anima piccoli o grandi che siano lascia da parte il superfluo e vivi solo le immagini della tua realtà immaginativa che ti regalano gioia ed emozioni positive perché saranno quelle che vivrai nella tua realtà materiale la banca la banca dei ricordi ognuno di noi ha sicuramente all'interno di sé un archivio di memorie e di ricordi formato da emozioni scolpite nella propria coscienza accedere volontariamente a questa vera e propria banca dei ricordi ci permette di accedere a questo grande archivio vibrazionale di emozioni che sono state parte del nostro vissuto immergersi in quel bagno caldo di emozioni ci permette non solo di rievocarle e di riviverle ma anche di proiettare la luce delle nostre emozioni nel nostro probabile futuro il beneficio di ricordare buoni ricordi non è solo nel momento presente ovvero assaporare momenti vissuti ma anche di far sì che le emozioni rivissute con l'atto di ricordare riverberino nel nostro futuro possibile attraverso un'attrazione vibrazionale esistono molti giochi della coscienza molti modi di utilizzarla in maniera cosciente e consapevole in modo da plasmare in maniera positiva la nostra vita se è vero ed è vero che la nostra realtà è il risultato della proiezione della nostra coscienza formata da pensieri emozioni aspettative e credenze accedere alla nostra banca di ricordi permette di spostare volontariamente il nostro punto di attrazione verso la vita che vogliamo vivere verso le esperienze di cui vogliamo godere nel mondo reale immaginare un ricordo e viverne le emozioni non è fine a se stesso ma un potente atto creativo nel caso in cui non si sia mai provato una determinata esperienza e quindi non la si abbia ancora nel proprio archivio emozionale della propria banca dei ricordi si potrà comunque lavorare e giocare con la propria coscienza attraverso l'esercizio del focus immaginativo su qualcosa che sentiamo di poter vivere e a cui accedere nella nostra realtà tridimensionale per agganciare quelle emozioni che non abbiamo ancora vissuto in prima persona potremo procedere alla visione di un film video e immagini che mostrano quelle persone e quelle situazioni che racchiudono l'essenza di ciò che vogliamo vivere oggi è cosa relativamente facile con la facilità di accesso a contenuti multimediali e ad enormi banche dati come internet basti digitare parole chiave su motori di ricerca ed accedere dopo un'opportuna ricerca a contenuti che ci diano una sensazione di ciò che desideriamo vivere e di cui emozionarci sarà quindi opportuno staccarsi dai contenuti standard programmi spazzatura film violenti e diseducativi che inondano inconsapevolmente i nostri occhi e la nostra coscienza su base giornaliera e fare in modo che nello schermo della nostra anima vengano proiettate solo le scene e le realtà virtuali che ci portino le emozioni che vogliamo vivere con la ripetizione quelle scene entreranno a far parte del nostro vissuto emozionale e a poco a poco vedremo apparire nella nostra vita per attrazione vibrazionale proprio quelle condizioni che vorremmo cogliere e vivere in maniera reale a quel punto starà a noi saperle cogliere con l'azione ispirata descritta in questo libro la banca dei ricordi e la visione dei contenuti che ci rendono emozionalmente vivi ci fanno crescere come coscienze sono solo una premessa la creazione intenzionale della nostra realtà non devono essere fini a se stesse altrimenti vivremo in un sogno o realtà virtuale di cui saremo nello stesso tempo re e prigionieri occorre anche lavorare sulla propria realtà concreta e quotidiana accettando gli impegni e il lavoro concreto che ci sarà eventualmente da svolgere occorre cogliere l'attimo della preziosa occasione che prima o poi potrà presentarsi e in altri casi occorrerà quotidianamente costruire in maniera paziente il proprio sogno sempre con la passione nel cuore e la mente al risultato ottenuto anche se al momento solo a livello di immaginazione questo tipo di lavoro eleva un individuo da un livello di vita automatico e inconsapevole a un livello di vita e di consapevolezza superiori che implicano la responsabilità e la preziosa opportunità personale di gestire quell'enorme potenzialità contenuta nella nostra coscienza e nella capacità di gestirla e di ampliarla in maniera consapevole libera il respiro per liberare lo spirito nel respiro esiste un enorme potere questo potere è pressoché sconosciuto liberare il respiro mediante sedute specifiche di respirazione permette non solo di accedere a strati alterati di coscienza ma di sciogliere blocchi emotivi che non permettono all'individuo di fluire liberamente nel flusso della vita e di prendere contatto con la sua vera essenza respirare in maniera intensa ed intenzionale per almeno 30 o 40 minuti permette al corpo di ricaricarsi di energia vitale la quale poi darà la forza al corpo stesso di depurarsi di tutte quelle tossine fisiche ed emozionali che spesso inquinano la purezza del corpo e la limpidezza dello spirito respirare in maniera specifica porta al riequilibrio acido-base attraverso l'espulsione nel respiro stesso degli acidi accumulati durante il training al respiro il corpo è soggetto a tutta una serie di reazioni che sono la prova che si sta intervenendo con successo verso il contatto l'accettazione e lo scioglimento di stratificazioni emotive somatizzate nel corpo attraverso malanni ed emozioni negative irrisolte la potenza del respiro agisce strato dopo strato ripulendo l'essere di tutto ciò che lo separa dalla sua limpidezza originaria di un essere sereno e in armonia con se stesso e con il mondo la respirazione eseguita in maniera specifica è uno strumento straordinario di crescita personale e di evoluzione della propria coscienza essa permette all'individuo di ritrovare se stesso una volta ripulito dalle barriere emotive che lo separano dalla propria essenza più profonda la respirazione è uno strumento fondamentale per trovare la propria visione essa costituisce una delle vie di accesso alla propria anima liberare il respiro permette allo spirito di librarsi sulle vette della sua accettazione liberazione e realizzazione lo scopo di una seduta di respirazione deve essere quello di portare il corpo ad abbassare la sua guardia per permettere alla mente di tuffarsi in quello stato dove ha libero accesso la propria verità interiore questo stato di beatitudine psicofisica si chiama integrazione psicocorporea raggiunto quel momento di profondo abbandono di ogni resistenza al controllo delle emozioni somatizzate nel corpo e trattenute nello spirito si percepirà un vero e proprio momento di estasi e liberazione è come liberarsi da un peso che si portava sulle spalle da anni ma di cui ci si era dimenticati essendo diventato il proprio bagaglio emotivo la tecnica una seduta di respirazione dovrebbe durare da un minimo di 30 minuti fino ad oltre un'ora andrebbe eseguita preferibilmente con l'assistenza di un'altra persona che permetta non solo di mantenere il ritmo respiratorio nel caso ci si stia addormentando ma anche di assistere la persona stessa durante la fase di sintomi che accompagnano la fase di integrazione tetania muscolare rilascio delle tensioni emotive pianto rievocazione e liberazione da eventi traumatici vissuti nel momento in cui dovessero insorgere questi sintomi l'assistente aiuterà la persona a mantenere l'intensità ed il ritmo respiratorio al fine di attenuare e sciogliere quelle tensioni occorrerà respirare come se il respiro fluisse attraverso le zone di tensione resistenza o fastidio la respirazione durante le sessioni di training respiratorio dovranno essere caratterizzate dall'assenza di pause tra inspirazione ed espirazione riempiendo il più possibile i polmoni dalla parte bassa respirazione addominale fino agli apici polmonari respirazione toracica il fenomeno dell'integrazione psicocorporea potrà avvenire in almeno 8 o 10 sedute solo dopo che il corpo fisico ed emozionale sarà stato ripulito dagli strati emozionali da cui era coperto e oppresso la riprova che si sarà fatto un buon lavoro sarà il fatto che ci si sentirà più connessi con se stessi con gli altri e con la vita sarà possibile un aumento di fenomeni di sincronicità a riprova che si sia raggiunta una modalità di essere in armonia con il tutto domande e risposte sul potere di manifestazione consapevole qual è l'energia che esaudisce i miei desideri l'energia focalizzata nel tuo desiderio già realizzato e vissuto in prima persona l'energia universale che crea i mondi è la stessa energia che tu utilizzi per creare il tuo mondo come riflesso delle tue circostanze di vita come faccio a manifestare pensa a ciò che desideri come già realizzato emanando le emozioni che proveresti gustandolo toccandolo vedendolo e udendolo poi agisci in maniera ispirata facendo quello che senti dentro di te come giusto o cosa da fare fallo in maniera naturale e senza sforzo semplicemente chiedi e ti sarà dato nei tempi e nei modi che l'universo deciderà mai forzare la creazione ma lasciala andare quanto tempo occorre affinché il mio desiderio si manifesti la legge di attrazione agisce nel non tempo ovvero nella quarta dimensione dove lo ieri l'ora e il domani sono contemporanei ogni desiderio avrà il suo compimento se il focus avrà dietro una intenzione abbastanza forte e nello stesso tempo non si darà troppa importanza al desiderio stesso il potere creativo esiste e agisce nel momento presente è il pensiero che abbiamo ora che proietta lo stampo della forma pensiero che plasmerà il nostro domani per velocizzare la creazione dell'evento occorre immaginarlo come già vero nel momento presente e con uno spirito sereno e fiducioso che stia già avvicinandosi alla nostra linea di vita e di esperienza il forzare la creazione porta all'allontanamento del risultato stesso ridurre la sua importanza al contrario permette che scivoli nella nostra realtà come posso diventare un creatore potente e consapevole lo sei già ma non ne sei al corrente in quanto non poni abbastanza attenzione a ciò che inconsciamente desideri e non vedi sottili nessi di apparente causalità tra i tuoi pensieri e ciò che vivi nella tua realtà diventare un creatore consapevole implica innanzitutto l'assunzione della responsabilità della propria vita in termini di pensieri azioni e quindi di risultato in secondo luogo richiede di sviluppare l'attenzione sulle sottili sensazioni che spesso indicano una via e il nesso di causalità che spesso lega pensieri ed emozioni con eventi a volte distanti nel tempo infine ciò che occorre per diventare maestri nella creazione intenzionale è l'intenzione stessa dietro ad ogni desiderio come forza scatenante degli eventi è lecito avere l'intenzione di manipolare la nostra realtà? Ogni essere ha il diritto di scegliere la propria strada espressione del proprio libero arbitrio e della sovranità del suo essere al pari di ogni altra creatura la volontà di indirizzare la propria vita verso esperienze di gioia piacere e crescita fanno parte di un essere che vede all'evoluzione come il suo fine ultimo anche il non volere fare scelte è una scelta in sé e va rispettata la regola fondamentale è di rispettare pienamente la libertà di scelta altrui e il libero arbitrio ognuno ha il diritto di scelta come noi e va ritenuto sacro come faccio a sapere che sto progredendo sulla via della creazione intenzionale te ne accorgerai quando a mano a mano che indirizzerai la tua intenzione assieme alla tua immaginazione vedrai apparire segni e manifestazioni della cosa che stai cercando fino eventualmente alla sua completa realizzazione nella tua realtà di vita altro indizio è la sensazione di gioia e di potere personale derivanti dal fatto di rendersi conto che è potenzialmente possibile rendere la propria vita un insieme di esperienze gratificanti e che non siamo fuscelli in balia di un caso capriccioso ma che un giorno saremo maestri della nostra vita in quanto liberi di scegliere ciò che si vuole ed abili nella sua manifestazione sempre e comunque nel pieno rispetto del libero arbitrio altrui e della creazione tutta come posso ringraziare l'universo Dio la forza o come vogliamo chiamarla per questo immenso dono che mi ha concesso come essere umano ovvero di essere libero di scegliere intenzionalmente le esperienze di vita che più desidero semplicemente mettendo in pratica ciò che hai imparato diventare maestri nella creazione intenzionale implica un salto evolutivo dell'essere umano che diventa da creatore inconsapevole a creatore consapevole della propria esistenza l'universo si espande ed evolve di pari passo con la nostra scelta come faccio a sapere ciò che voglio intendi di volerlo sapere invia all'universo la tua intenzione di scoprire qual è lo scopo della tua anima e qual è la migliore via da percorrere nell'ottica della tua crescita e del tuo benessere chiedi inoltre di sapere come tu possa contribuire al bene del tutto anche se già seguendo te stesso e la tua vera visione di vita darai un enorme contributo al tuo mondo circostante che riverbererà molto oltre seguendo te stesso diventerai una persona realizzata e gioiosa e ciò da solo sarà un enorme contributo a chi ti sta intorno oltre a ciò ispirerai altri a seguire se stessi ed a trovare la loro migliore formula del loro successo personale qual è il più grande contributo che io posso dare alla mia comunità realizzarti come persona perseguendo ciò per cui sei portato per natura il risultato sarà una persona ricca di gioia e di vitalità che mette l'arte in quello che fa non esisteranno più persone stanche ed annoiate la ruota della vita girerà per tutti in maniera più facile ed armoniosa in una società di esseri realizzati ognuno dà il suo massimo contributo non solo a se stesso ma alla comunità tutta e oltre cosa posso fare per aiutare chi mi sta intorno e combatte contro la vita invece di assecondarla scivolando nelle sue opportunità ciò che puoi fare è dimostrare il tuo esempio di vita puoi suggerirgli di imparare a gestire la sua realtà ma senza forzare in alcun modo le sue scelte di vita ognuno è libero di scegliere il modo di pensare di vivere e di fare le sue scelte quando una persona è pronta per qualcosa allunga da sé la mano e chiede spontaneamente a chi sente di poter chiedere nell'evoluzione non esiste forzatura ogni pianta seme o albero hanno i loro tempi per dispiegare se stessi e le loro potenzialità così l'essere umano non bisogna mai giudicare nessuno in base alle proprie ragioni ognuno possiede la propria ragione che crea la realtà della propria vita qual è la domanda che l'anima di ciascuno fa a sé stesso conosci te stesso ascolta te stesso e segui te stesso questo libro vuole essere una guida verso il raggiungimento di questi tre imperativi dell'anima di ciascuno note finali dell'autore gentile lettrice gentile lettore spero con questo libro di aver contribuito in qualche modo a farti comprendere l'enorme potere che hai nelle tue mani il potere di cambiare la tua vita come meglio ritieni voglio farti comprendere come tu in qualunque situazione ti trovi attualmente possiedi il potere di scelta e di cambiare in meglio qualsiasi situazione la vita è un processo di crescita e diventare maestri nell'uso dell'intenzione e dell'immaginazione permette di divenire parte di una vera e propria rivoluzione dell'essere umano da essere umano creatura ad essere umano creatore utilizzare il subconscio a proprio favore permette di crescere ed evolvere come individui oltre a manifestare cose belle e importanti nella propria vita ogni essere umano ha il diritto di vivere secondo i suoi standard sempre nel pieno rispetto della libera scelta altrui grazie per essere stato con me in questo breve viaggio alla scoperta di te stesso ti auguro di cuore ogni bene David Hai ascoltato Il potere della tua visione manifesta ciò che vuoi con il potere dell'intenzione e dell'immaginazione di David De Angelis Copyright David De Angelis 2021 Narrato da Alex Martinelli Tutti i diritti sono riservati Grazie a tutti